E la benzina ogni giorno costa sempre di più E la lira cede e precipita giù Svalutation 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 Cambiano i governi Inizio e cambia adesso Svalutation Bene, io non so voi, ma sono talmente curioso di sentire Cerentano a Sanremo che la prossima settimana sospendiamo soprattutto vorrei capire che cosa dirà del governo Monti Ecco, sono molto curioso di vedere un'opinione, di ascoltare un'opinione di Cerentano sul governo Monti anche perché parlare del governo Monti, diciamocelo francamente, non è poi così semplice né così facile Per esempio la scorsa settimana Marco Travaglio ha dedicato un suo editoriale a Michel Martone Ebbene il sottosegretario, come spesso capita quando Travaglio fa i suoi editoriali, si è infuriato Ora, molti giornali avevano scritto, senza smentite, che il relatore della sua tesi era il professor Persiani e questo professor Persiani era stato poi presente in tutti i momenti decisivi della carriera di Martone Cosa succede? Che invece il relatore della sua tesi è stato il professor Dell'Olio Prendiamo atto, anche se dobbiamo aggiungere che il professor Dell'Olio è stato a lungo, contiguo diciamo così, un grande collaboratore del professor Persiani dal punto di vista accademico Poi ci fa sapere che lui non ha mai detto la famosa frase che era diventato viceministro perché aveva mandato un suo curriculum a Catricalà Ma la frase era stata riportata, tra virgolette, dall'Espresso Anche questa frase qui non era mai stata smentita in precedenza E così, per esempio, la famosa frase Gli sono state attribuite, diciamo così, delle deleghe di funzioni particolari Non è che se l'è inventata, diciamo, Marco Travaglio Era contenuta pure questa in un comunicato ufficiale proprio della Presidenza del Consiglio Invece di deleghe ne ha, di numerose e importanti Ne prendiamo atto e quindi vedremo che cosa farà, insomma, nella gestione di queste deleghe Infine dice che lui non è mai stato consulente della Civit Alla testa di questo ente il ministro Brunetta aveva poi proposto e ottenuto, insomma, la nomina di suo padre Del padre di Martone E invece lui è stato effettivamente consulente proprio del ministero di Brunetta Diverse volte e una volta per la digitalizzazione del settore pubblico nei paesi terzi Quindi, come vedete, una materia estremamente importante Il padre ha visto Previti una sola volta E ha preso soltanto un caffè con Verdini Allora noi ci chiediamo per quale motivo si è dovuto dimettere la magistrato dopo lo scandalo della Piedrece E, francamente, è un'esagerazione, visto che, insomma, queste frequentazioni erano così scarse Insomma, le sue implicazioni erano così irrilevanti Ma io vorrei fare un discorso un po' diverso a questo sottosegretario Visto che lui è così giovane, è così sbarazzino, è così intraprendente Parla senza peri sulla lingua Almeno lui, non dico Monti, che, insomma, è molto più anziano, è molto più sobbio Insomma, è ormai, così, è stato ricevuto Obama Insomma, è molto più complicato che venga in un contesto come questo Insomma, rispondere a delle domande impertinenti Ma lui, che è giovane, che è sbarazzino Che, insomma, si può permettere qualunque cosa Beh, qui ci dovrebbe venire e faccia faccia rispondere Ripristinare la verità dei fatti Come si fa, insomma, nei contesti, diciamo, più dinamici E più moderni e più mobili, soprattutto Insomma, quelli a cui lui fa riferimento Se venisse, a meno che, insomma, non lo so A meno che il governo non lo faccia uscire da solo Insomma, sia preoccupato che frequenti troppe cattive compagnie Perché, se venisse qui, potrebbe vedere, per esempio Diciamo così, Inside Job Per la prima volta, stasera, potremmo trasmettere in televisione Dei brani di questo straordinario documentario Che ha vinto un Oscar Per gentile concessione della Sony E, a proposito di sfigati Mi piacerebbe tanto chiedergli Sa quanti sono i lavoratori che sono rientrati a Pomigliano? Sono diventati 1845 Credo che la prossima settimana ce ne saranno altre centinaia che entreranno Bene, a quota 1845 Ancora non si registra un tesserato FIOM a Pomigliano Uno solo Bene, allora io gli vorrei chiedere Ma lui è preoccupato di una cosa del genere? Il Ministro Fornero è preoccupato di una cosa del genere? Il Presidente della Repubblica è preoccupato di una cosa del genere? Perché, sapete, nella nostra Costituzione È scritto chiaramente che Non ci possono essere discriminazioni Sui luoghi di lavoro E io credo che Almeno per servizio pubblico Qualche risposta a queste preoccupazioni sarebbe dovuta Ma è sempre così vuoto qua il mercato Che vedo là dietro e non ci sono camion E qui c'ha la merce ferma da quando? Da ieri Da ieri che non vende nulla? Nulla, niente però Siamo tutti qui nella Spagna, niente Se lei si fa un giro qui dentro Trova tutta una serie di prodotti di Pachino invenduti Tutto è venduto Cioè queste cassette che ci avete detto Tutto è venduto? Tutto è venduto, signora Guarda, basta che vede qua e tutto è venduto E l'è arrivata quando questa merce? Ieri mattina Ieri mattina e non ha venduto nulla? No Tutto fermo? Sì L'hai rimasto tutto nel magazzino pieno Esatto Tutto parchino di ieri che non siete riusciti a vendere Di quanti chili parliamo? Tra ieri, tra il quale e l'altro magazzino C'abbiamo intorno ai 400 miliardi di merce Che non riuscite a vendere? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei mezzi fermi Da quello che è il più piccolino, no? A questo che è il più grande Quindi sono mezzi che costano? Quanto costa, questo costava, all'epoca quando lo comprai Sei anni fa costava 160 mila euro, più IVA e più interessi Vuole vedere quanto gasolio c'entra sotto quest'automezzo? Guardi, qua c'è un serbatoio, questo serbatoio qua è capiente di 600 litri 600 litri Quanto le costa? Vuole venire a vedere da quest'altra parte quanto ce n'è? Quindi c'è doppio serbatoio? Sì Questo qui sono 800 litri Poi ce n'è qua ancora un altro Che questo qui è quello per il freddo Per la temperatura, è bene? Sono altri 250 litri Mi faccia il conto lei Al costo che sta il carburante Con quello che prendiamo noi sul trasporto Come faccio io a fare il pieno dei serbatoi? Quanto vi è costato seminare e far crescere questo campo di cavolfiori? A noi ci è costato almeno 6-7 mila euro E questo rimane tutto così? Tutto così perché non ci conviene raccoglierli Quanti campi avete che vi conviene lasciare andare così? Ma quasi la metà della produzione rimane per terra Qui che cosa cresceva? Qua c'era l'ultimo raccolto fatto, c'è stato il mais Però col costo del gasolio e la siccità quest'anno È stato un problema a portarlo a termine Abbiamo dovuto abbandonarlo a un certo punto Abbiamo raccolto quello che c'era E adesso quanti ettari di terreno incolto c'ha lei qua intorno? Quasi 20 Quasi 20 ettari che le conviene non seminare? Sì, per il momento sì Lei ha fatto un mutuo per comprare questi beni? Sì, e non ce l'ho fatta più a compensarlo perché i redditi sono andati a zero praticamente Un mutuo di quanto? Questo è stato un mutuo di 350 mila euro Quando lei non è più riuscito a pagare il mutuo, la banca che cosa ha fatto? La banca mi ha chiuso praticamente l'accesso al credito perché noi siamo persone a rischio Così è successo che tutta la sua azienda è stata venduta all'asta? Sì, purtroppo sì Quante bufele avete qua? Oltre un centinaio di bufele ci abbiamo attualmente E come mai qui ci sono tutte queste postazioni vuote? Queste postazioni vuote perché ci stavano tutte le vacche da latte qua Quante ne ha dovute vendere? Ho dovuto vendere un'ottantina di capi Ottanta vacche ha dovuto vendere? Ottanta vacche ha dovuto vendere Una mucca quanto la vende? Io ho venduto 80 capi, ci ho fatto 40 mila euro Se dico la sincera verità le ho proprio distrutte perché Le ho svendute Le ho svendute L'attrezzatura che le devi comprare Il fiene che lo devi fare, il congime lo devi comprare Io in due anni ho perso la bellezza di 130 mila euro Per pagare le banche o per pagare l'Equitalia si trova a dover svuotare questa stalla E certo Qua vedo i trattori, i tir, la barca in cima al trattore Mi spiegate che sta succedendo nel lago Pontino? Stiamo a morire di fame Hanno impoverito questo paese creando un debito pubblico di 2000 miliardi E lo vogliono far pagare a noi Quanti di voi ha le aziende all'asta? Chi non ce l'ha, ci andrà, è una questione Tutti quelli con le mani alzate hanno l'azienda all'asta Allora, calcola che io ho un debito per l'Equitalia di 46 mila euro Mi vendono l'azienda all'asta per 600 mila euro Mi vogliono mettere limo sopra i capannoni Purtroppo per avere 250 animali devi avere almeno 5 mila metri di capannone Adesso ho 200 capi dentro la stalla Malzo la mattina alle 5 e vado a dormire la sera alle 9 Siamo qua per difendere quello che è un diritto sacrosanto Noi stiamo lavorando per mantenere i nostri figli, per mandarli a scuola, per dargli un futuro Che futuro gli diamo? Se io per prima dico a mio marito, ma vendi tutto, ma chi se ne frega? Ma perché devo lavorare solo per pagare? Morgan Stanley nel 1972 Aveva un personale di circa 110 dipendenti Un ufficio E un capitale di 12 milioni di dollari Ora Morgan Stanley ha 50 mila dipendenti Un capitale di diversi miliardi E ha diversi uffici sparsi per il mondo Avevo un amico che faceva il bond trader alla Mary Lynch negli anni 70 Di notte lavorava come controllore dei treni Perché aveva tre bambini e non poteva mantenerli Col solo stipendio da bond trader Nel 1986 guadagnava milioni di dollari Ed era convinto che fosse solo merito suo Alla fine degli anni 90 Il settore finanziario si consolidò in poche ma enormi società Così grandi che il loro fallimento avrebbe potuto minacciare l'intero sistema Citicorp e Travelers si unirono per formare Citigroup La più grande compagnia di servizi finanziari del mondo Questa fusione violava il Glass-Steagall Act Una legge passata dopo la Grande Depressione Per prevenire che le banche con dei depositi dei consumatori Potessero partecipare a investimenti rischiosi Perché abbiamo delle grandi banche? Perché alle banche piace il potere monopolistico E il potere delle lobby Perché quando sono troppo grandi Sanno che avranno un piano di salvataggio Che Dio mi aiuti Che Dio mi aiuti Quando George W. Bush divenne presidente nel 2001 Il settore finanziario statunitense Era diventato molto più redditizio, concentrato e potente A dominare questa industria c'erano cinque banche di investimento Due conglomerati finanziari Tre compagnie di assicurazioni E tre agenzie di rating A legarle insieme c'era la catena alimentare della cartolarizzazione Un nuovo sistema che connetteva trilioni di dollari in mutui E altri prestiti con investitori di tutto il mondo Trent'anni fa, se si voleva un mutuo Chi prestava i soldi voleva essere ripagato Dalla nascita della cartolarizzazione Le persone che fanno un prestito non sono più a rischio Nel vecchio sistema Quando un proprietario di una casa pagava il mutuo ogni mese I soldi tornavano nelle tasche del creditore E poiché si impiegavano anni per ripagare un mutuo I creditori prestavano i soldi con attenzione Con il nuovo sistema I creditori potevano vendere il mutuo alle banche di investimento Le banche di investimento combinavano migliaia di mutui e altri prestiti Inclusi i pagamenti per le auto, rate scolastiche E i debiti delle carte di credito Per creare dei complessi derivati chiamati Collateralized Debt Obligation o CDO Regolare le transazioni dei derivati Che sono negoziate privatamente da professionisti Non è necessario I derivati sono strumenti unificatori Riducono il fardello regolatorio Dobbiamo far passare questa legge La nostra speranza più grande È che quest'anno sarà possibile Passare Una legislazione Che permetterà di creare una certezza legale Per gli strumenti derivati privati Le banche di investimento poi vendevano i CDO agli azionisti Ora, quando i proprietari di una casa pagavano il mutuo I soldi andavano a degli azionisti sparsi per il mondo Le banche di investimento pagavano le agenzie di rating Per valutare il loro CDO E molte di loro ricevevano come rating una AAA Il grado di investimento più alto possibile Questo mondo di comunicazioni a livello globale I liberi ed efficienti movimenti di capitale Stanno aiutando a creare la più grande prosperità della storia dell'uomo A Wall Street i bonus annuali in contanti si impennarono Gli operatori di borsa e i direttori generali Divennero enormemente ricchi durante la bolla La Lehman Brothers era diventata la prima società di assicurazioni Per prestiti subprime E il suo direttore generale Richard Fuld portò a casa 485 milioni di dollari Se le avessero detto che per guadagnare 10 milioni di dollari all'anno Avrebbe dovuto mettere la sua istituzione finanziaria a rischio E che qualcun altro avrebbe pagato il conto, non lei Sarebbe stato pronto a farlo? La maggior parte delle persone a Wall Street disse Lo faccio io La maggior parte delle persone a Wall Street Non era mai abbastanza Non volevano possedere una casa, ne volevano 5 Volevano avere un attico di lusso a Park Avenue E volevano un jet privato Pensa che questa sia un'industria dove dei livelli molto alti di compenso siano giustificati? Beh, penso che farei attenzione e userei con cautela la parola molto alti Insomma, è tutto relativo Lei possiede una villa da 14 milioni di dollari in Florida Ha una casa nella Sun Valley, Idaho Lei e sua moglie possedete una collezione d'arte valutata a milioni di dollari Richard Fold non è mai apparso nella sala delle contrattazioni Era sempre impegnato nel suo ufficio con dei consulenti d'arte Aveva il suo ascensore privato e aveva fatto di tutto per isolarsi L'autista chiamava dalla limousine e diceva alla guardia di sicurezza di tenere pronto l'ascensore C'erano solo due o tre secondi nei quali doveva interagire con delle persone Poi saltava nell'ascensore e andava direttamente al 31esimo piano La Lehman possedeva diversi jet aziendali, lo sapeva? Sì Quanti ne aveva? Sei, inclusi 767 E anche un elicottero Capisco, non sono un po' troppi aerei per... L'attività bancaria diventò un gioco per bambini Insomma, il mio è più lungo del tuo Era tutto gestito da uomini Affari da 50 miliardi non erano abbastanza Così ne facevamo da 100 Queste persone sono amanti del rischio, sono impulsive Fa parte del loro comportamento È parte della loro personalità E si manifesta anche fuori dall'ambiente di lavoro È tipico per queste persone uscire la sera Andare in strip club, locali, fare uso di droghe Vedo molta cocaina e prostitute Recentemente i neuroscienziati hanno svolto degli esperimenti Dove hanno preso degli individui e li hanno messi in una macchina per la risonanza magnetica Poi gli hanno fatto fare un gioco dove il premio era il denaro Hanno notato che quando i soggetti guadagnavano dei soldi La parte del loro cervello che veniva stimolata Era la stessa che veniva stimolata dalla cocaina Molti credono che avere questi comportamenti sia l'unico modo per farcela Per venire promossi, per essere riconosciuti Secondo un articolo di Bloomberg I broker di derivati di New York Spendevano il 5% delle loro entrate in intrattenimento Che spesso includeva strip club, prostituzione e droga Un broker di New York intentò una causa nel 2007 contro la sua azienda Affermando che veniva obbligato a ingaggiare prostitute Per intrattenere gli operatori di borsa Quanti clienti aveva? Avevo circa 10.000 clienti In che percentuale da Wall Street? Dei clienti più facoltosi probabilmente dal 40 al 50% Ed erano rappresentate tutte le maggiori società di Wall Street Goldman Sachs Lehman Brothers Sì, c'erano tutte La Morgan Stanley era meno coinvolta La Goldman Sachs era molto coinvolta Molti clienti mi chiedevano Mi procuri una Lamborghini per la serata con la ragazza? Queste persone spendevano soldi aziendali Ricevevo molte carte nere dell'American Express Dalle varie società finanziarie Questi servizi venivano addebitati come riparazioni di computer Ricerche di mercato, consulti per accordi di commercio Io gli davo solo l'intestazione Gli dicevo di farsi la fattura da sole E questo comportamento lo avevano anche i manager più importanti? Assolutamente sì Sì, lo so con certezza Bene, allora questo era Inside the Job Benvenuti anche a voi Insomma siete arrivati un po' Cioè avevo avuto qualche problema? Mentana, no? Avevo un telegiornale Paolo Mieli E benvenuto soprattutto Giulio Tremonti Vorrei dire subito che Per correttezza insomma noi siamo qui per parlare del suo libro C'è questa, io ritengo questa occasione molto importante Perché chiude bene questo nostro ciclo dedicato alla crisi E quindi per me è un'occasione preziosa Ho voluto accanto a me delle persone altrettanto preziose Insomma di questa occasione per poterne parlare approfonditamente Cito subito, ripeto, Inside the Job che abbiamo appena visto Poi vedremo, cioè l'abbiamo lasciato un po' nella fase preliminare Poi vedremo che cosa succede dopo La cosa è molto interessante Il regista si chiama Charles Ferguson Dal suo libro cito a memoria Cioè il PIL mondiale Più o meno è 62.911 miliardi di dollari, giusto? Se lo dice lei Bene, c'è scritto nel libro Questi titoli considerati tossici Sono tre volte, sono undici volte Undici volte questo PIL mondiale Più di undici volte il PIL mondiale Quindi le immagini che abbiamo visto prima Della crisi, diciamo, come la stiamo avendo in Italia E l'origine di questa crisi Che è, insomma, nel sistema bancario degli Stati Uniti Sono due immagini che si sovrappongono Cosa ci può dire di questo? Io sono davvero molto contento di essere qua E di avere un po' di tempo e un pubblico Per spiegare non il libro ma la storia di questi anni Ovviamente vista come l'ho vista io O vissuta in quel modo E come è scritta nel libro Primo il libro I diritti d'autore vanno in beneficenza Quindi qualsiasi acquisto o promozione Va in quella direzione Se uno vuole commentare più specificamente Sul libro c'è il sito www.giuliatremonti.it E può dire quello che vuole E io cercherò di rispondere Quando ho cominciato a scrivere quel libro E quando ho visto come veniva fuori Pensavo di essere isolato Pensavo che fossero tesi isolate Specifiche molto diverse Dal pensiero unico comune generale Primo Sono nel libro scritte le cose Che ho detto in tutti i vertici internazionali Che ho scritto preparando quei vertici E soprattutto sono le cose Che nel parallelo di quell'attività Ho detto Nelle università straniere Alla scuola centrale del partito comunista cinese A Pechino A Chattamausa A Yale Esattamente le stesse cose Cioè vuol dire che c'è una coerenza Nel suo percorso come ministro Se uno legge il libro e vede i documenti Nel suo percorso come scrittore Se uno legge il libro e vede i documenti Trova questa corrispondenza Per essere più concreti adesso La storia si ripete Non per identità perfette Ma per analogie abbastanza specifiche La crisi del 29 Ed è scritto benissimo in un altro libro Il grande crollo di Galbraith La crisi del 29 comincia Quando si specula Sui terreni della Florida Quindi ha un inizio immobiliare La gente compra i terreni della Florida Che sono acquitrini Che sono roba dove non costruisci Non per costruire Ma per guadagnare Guarda caso La crisi americana Inizia con i mutui immobiliari È un altro contesto Ma guarda caso Inizia così Poi si sposta dalla Florida A Wall Street E quel modo per guadagnare Diventa un modo Comprevendo azioni in borsa E diventa ricco in quel modo E tutti vengono presi Da questa euforia Come ha detto Credo quel signore Prima Il periodo più florido e bello Della storia dell'umanità Si sta prendendo Così il presidente Coolidge Disse Al congresso La fase più bella Della storia americana Si apre Quando il sistema Comincia ad andare male Quando mancano I liquidi Per continuare A far girare Quegli pseudosolidi La banca La riserva federale americana Comincia a prestare I soldi gratis Alle banche Li dà al 5 Li fa guadagnare al 12 A condizione Che investano A riporto Sui titoli E avviene Esattamente Nel 29 Il crollo Che si è visto Dopo il 29 La crisi Passa Da Wall Street Dalla finanza Alla vita della gente E c'è una grande Letteratura americana Steinbeck Women at Office Furore Insomma E sono libri Che noi abbiamo letto Ai nostri tempi Ed è la crisi Che entra nelle famiglie La disperazione La disoccupazione Le code La soluzione Viene con Roosevelt Roosevelt fa Alcune cose fondamentali Divide le banche E le divide Tra banche Produttive Che danno i soldi Alle imprese Ai lavoratori Alle famiglie Alle comunità E banche speculative Se vuoi speculare Speculi Ma non puoi girare Il conto Della perdita Ai risparmiatori Introduce Delle regole Molto forti Di etica E di comportamento E poi avvia Un grande processo Di investimenti Di opere pubbliche Per marcare Tra l'altro L'idea Che il bene comune Deve stare sopra Il profitto privato Ed è il new deal Di Roosevelt Quello che salva L'America Ed è la macchina Industriale americana Che batte Il nazismo In Europa Pensavo di essere solo Con il libro Che ricostruisce Tutti questi fatti Nel tempo presente La degenerazione Della finanza Gli strumenti I derivati I derivati Faccio un esempio I derivati Sono commesse Speculative Io posso Nascono come assicurazione Io assicuro Il rischio Che bruci La mia casa Ma se io faccio Questa è l'assicurazione normale Io assicuro La mia casa Contro Il mio bene Ma perché Va in qualche modo Male Il suo di bene E poi basta Che vada in giro A dire Non che brucia Ma che c'è Puzza di bruciato E faccio Profitti enormi Faccio conto Che in questo momento Quelle che restano Di quelle grandi banche Hanno mediamente Un miliardo Di contratti I derivati Non un miliardo Investito Un miliardo Di dollari Investito In derivati Un miliardo Di contratti Lei pensa Che 5-6 banche Possano gestire Tutti incrociati Un miliardo Di contratti A testa C'è qualcosa Che non funziona Le agenzie di rating Tutto questo La cosa Che Mi fa Un positivo Effetto Adesso È che Quelle tesi Che alcuni Hanno considerato Quelle del libro Ma vedremo Dove come Che hanno considerato Estremiste Hanno detto Tesi Da indignados In realtà Sono le tesi Del vecchio sistema Degli anni 90 Che cambia Alla fine Gli anni 90 Con la globalizzazione E sono Da ultimo Le tesi Che vengono Sostenute In Europa Nei programmi elettorali Del partito Socialista Francese E del partito Socialdemocratico Tedesco Se lei Vede L'intervista Un grande giornale Italiano Di domenica Il candidato Alla presidenza In Francia Dice La finanza Deve essere Messa Sotto gli stati La finanza Non può dominare L'economia Gli stati I popoli E la vita Di tutti noi Le banche Devono essere divise Le regole Devono essere cambiate Rimesse E via Di questo passo Gli eurobond Come meccanismo Per fare Grandi investimenti Pubblici In Europa Sono tesi Socialiste Sono tesi Secondo me Sono tesi giuste Non voglio dire Che le tesi scritte Nel libro Che sono le stesse Sono Di destra O di sinistra Credo che siano giuste È la replica Attualizzata Di quello Che ha fatto Roosevelt Negli anni 30 Ed è la cosa giusta Che dobbiamo fare Se uno pensa Che si può continuare Come adesso Nell'illusione Che tutto si regga Pensa Sbagliato In questo momento C'è una tregua Finanziaria Perché la BCE Stampa moneta La presta Alle banche All'1% E le banche La prestano Agli stati Al 5 Al 4 Al 6 E alle famiglie All'11 Sembra il sistema giusto E poi ripeto Stampa moneta Siccome nessun pasto È gratis Tranne forse Che per le banche Chi paga I cittadini Approfondiamo Poi subito dopo Allora Cominciamo Da Paolo Nel libro A un certo punto C'è Addirittura all'inizio Una dichiarazione Molto forte Questa descrizione Del ritorno In campo positivo Della politica Che adesso Tremonti Ci faceva Alla fine In realtà C'è una diagnosi Molto spietata Che la precede Qual è questa diagnosi Dire Insomma La crisi Ha avuto origine Dal sistema bancario Adesso il guaio È che questa crisi Si è spostata Sugli stati Cioè sui debiti pubblici Degli stati Cioè non sono più Soltanto le banche Nell'occhio del ciclone Stiamo parlando Della Grecia Stiamo parlando Del fatto Che in questo momento È stato detto Alla Grecia Che non sono sufficienti I provvedimenti Che la Grecia Aveva concepito Diciamo Nella sua autonomia politica Quindi l'Europa Sta chiedendo Alla Grecia Se vuole i soldi Per tamponare La sua crisi Di fare di più Quindi non stiamo parlando Di cose generiche Ma di cose Molto importanti Quindi la crisi Si è spostata Sul debito Dice Tremonti Che cosa succede Che a questo punto La politica Sostanzialmente È stata fatta fuori Il mercato È diventato dominante La finanza Scende In presa diretta Nella gestione Delle scelte Economiche E lo fa Attraverso I tecnici Frase per niente Così insomma Tranquilla e neutrale Cosa dice Paolo Amieni Che le code Stanno esattamente così Come le ha descritte Giulio Tremonti Noi non dobbiamo Dare Una Così come dire Un senso valutativo Ma descrittivo Cioè Questo è successo È successo Non solo in Italia È successo in Grecia E sta succedendo In modo Diverso Può accadere In tutti i paesi D'Europa Perché Sempre nella diagnosi Del libro La politica In generale Perché non è solo In Italia Tra l'altro in Italia Lo riguarda Personalmente Parleremo anche di questo Ma la politica Quando doveva Scendere in campo E porre dei freni Alla globalizzazione Delle regole Oppure alle banche Si è distratta Nel nostro paese Si è distratta Nella maniera Che conosciamo Però si è distratta La cosa che fa impressione Ed è vero Il punto forte Della sua argomentazione È che si è distratta Per tutto Perché non è che ci sia stato Un paese Che ha preso in mano La situazione Abbiamo visto Nel film Che L'America è stata La capitale Di questa distrazione L'epicentro E l'Europa Non si ha notizie Di paese Che abbiano seguito Con accortezza E succede E C'è una Frase di Thomas Jefferson 113 anni Prima della crisi Del 29 Tremonti la cita Che diceva Che quando Le banche Le potenze bancarie Le chiamiamo Sendono in campo Sono più Pericolosi Degli eserciti In campo E se stesse Cioè Potenze bancarie Vuol dire Speculazione Senza Regole Senza Di fronte A una distrazione Della politica Generano Grossi guai L'hanno generato Più volte Nei secoli Passati Poi l'hanno generato Negli anni 30 Ma Oggi ha detto Tremonti In un dibattito A volte sono le banche Che fanno le rapine Vabbè Ma questo Lo diceva anche Brecht Quindi Si può Si può dire Ma Il fatto è che Il fatto è che Probabilmente La scesa in campo Dei tecnici Almeno questo Speriamo noi Questo spera La comunità Internazionale Ed è questo il punto Non è il preludio Per una dittatura Fuori dalla politica Fuori dal voto Definitiva Ma un passaggio E qui sta la sostanza Un passaggio Per restituire La politica Un quadro Riassestato E perché si mette in moto E non compie Allora perché lei nel libro Dice che addirittura C'è la possibilità Ti può portare a forme di fascismo Di nuovo tipo Di nuovo Di nuovo generazione Ma è una realtà Che può essere anche Contrastata Io ho cercato Di spiegare Come girano le cose Nel libro Ho citato I programmi Dei grandi partiti Europei Socialisti Che probabilmente Vincono le elezioni E cambiano il corso Della storia Del continente La Grecia Lei dice L'Europa Il Parlamento europeo Nel Parlamento europeo Il gruppo della sinistra Socialdemocratica E democratica Ha invitato La cosiddetta Troica Che poi sarebbero Il fondo monetario La banca centrale europea E la commissione europea Ma anche il Parlamento europeo È un pezzo dell'Europa Ha invitato A presentarsi Ha formulato Un documento Di durissima critica Alla politica Che viene imposta Alla Grecia Lo definisce Un approccio Ideologico E punitivo Quello della troica Nei confronti Della Grecia E chiude dicendo È un grave Tradimento Ricordiamo che Taglio dei salari minimi Taglio delle pensioni Riduzione molto Il problema Che non è il primo Sarebbe il secondo Il terzo In un paese Che ha i giovani Che emigrano I capitali Sono già emigrati Ed è estenuato Da una realtà Tragica E dice Questa politica Fatta dalla troica È un grave Tradimento Del modello Sociale europeo Un grave Tradimento Della solidarietà Che è uno Dei principi Fondatori Dell'Unione Tutte le misure Renderanno la situazione Ancora peggiore Danneggiando La società Greca Io credo Che sia la posizione Giusta E non è una posizione Vecchia È nuova Quindi La mia impressione È che dopo 20 anni di sonno Nel mondo La politica Stia tornando E stia tornando Dalla parte giusta Che non è quella Della finanza Ma è la parte Dei popoli Ho capito Mentana Ma aiuti tu A decodificare Questo Tremonti Perché Insomma Più che il Tremonti Di sinistra Che cita Tutte le piattaforme Dei socialisti europei Sarà stata La lunga frequentazione Con Berlusconi Che ha provocato Secondo me Secondo me C'è un momento Di liberazione Finalmente Non è così Cominciato Mi butta a sinistra Perché non se ne può più Allora No La questione è che Probabilmente La politica Quando perde Lo scettro Quando perde Il controllo Della ex stanza Dei bottoni Ha la possibilità Di vedere Con uno sguardo Diverso Quello che accade Io ricordo sempre Non lo faccio certo Per sollevare Tremonti Dalle sue responsabilità Che L'apice Di questo processo Degenerativo Consta Nella decisione Nel 99 Clinton Regnante Negli Stati Uniti Blair In Gran Bretagna La decisione Del segretario Alla difesa Al tesoro americano Di abolire Di superare Il famoso Glass-Steagall Che è il Laurea Regola Rooseveltiana Nell'ultimo Dei cento giorni L'atto Fu Varato dal Parlamento Di separazione Tra banche commerciali E banche D'affari Nel 99 Il segretario Al tesoro L'amministrazione L'amministrazione E Clinton Decide di superare Quello In nome Come sappiamo Di una globalizzazione All'insegna Tutto sta andando meglio Siamo in un periodo Inesauribile Di spinta Alla crescita E questo ci favorisce Mettiamo Le vele al vento E la crescita Finanziaria Ma anche economica Ne sarà esaltata E' lo stesso La stessa vela Al vento Che metteva Illusoriamente Blair Nella Swing London Nella Gran Bretagna Che si finanziarizzava Non dimentichiamo Che il crollo Della Gran Bretagna È dovuto al fatto Che è diventato Un paese Sempre più Poggiante Sulla colonna Sulla sola colonna Finanziaria Questo per dire Che non Che non c'è Una politica Di destra O di sinistra Nel fiancheggiamento Allo strapotere Finanziario E da questo punto di vista La politica Secondo me Vive da più di un decennio Uno stato Di minorità Anche perché Bush Sicuramente Ha fatto La parte maggiore Però No no La parte maggiore L'ha fatta Clinton No no Ma voglio dire Clinton ci ha messo Una pezza importante No no Ma è stato lì Che è stato Appoggiato tutto Bush Tanto per intenderci Non era in grado Non era in grado Non capiva quello che è successo No no Letteralmente Non era in grado Per molti aspetti Si è trovato subito L'11 settembre Quindi non era in grado Per questo Non perché fosse Un fesso Come una parte Di storia Dicono Quello che però Un po' contesto A Tremonti È che questo Strapotere finanziario Poi mostra la corda Nel senso del rischio Per In maniera molto Visibile Già a metà Negli anni 2000 È un periodo Che lui ricorda Perché coincide In gran parte Nel periodo Il capitalismo delle locuste E cioè Quel capitalismo finanziario Che sta Si sta mangiando Letteralmente Le società Detto predatorio Ma lui usò Questa che resta Questa locuzione Appunto Del capitalismo Delle locuste Lì Era già tutto Abbastanza evidente Tant'è che cominciò Già lì La rievocazione Rooseveltiana Di quello che si poteva Ricostituire In termini di capacità Dei governi Di agire Sull'economia Reale Non lasciando Soltanto Lo strapotere Dell'economia Del capitalismo Finanziario La questione Si è sempre più Acuita In questi ultimi anni Ora È ovvio È evidente Che è stato Il grande capitale Finanziario Se la volessimo Mettere in termini Che sarebbero Piaciuti ai socialisti Di inizio Dello scorso secolo A volere Lo sfratto Di Berlusconi Del suo governo E non c'è dubbio Che noi viviamo Un commissariamento Commissariamento Della politica Ad opera Di un liquidatore Fallimentare Perché questo Sta succedendo Il problema È che nella percezione Non soltanto Credulona E non soltanto Guardando Le copertine Di Time Succede Che mentre le macchine L'uomo che salverà L'Europa Forse può Quest'uomo salvare L'Europa Potrebbe salvarla È come se Le macchine Del gran premio La politica I partiti Fossero state Costrette Andare Ai box Perché continuavano A sbandare E la safety car Cioè Monti Sta andando Più veloce di loro Fa i record sul giro Il rischio È che la gente Il rischio reale Già reale oggi È che la gente Dica Ma se vanno bene I tecnici La politica A cosa serve Altro che il ritorno Della politica Il rischio È quello di una Messa in mora Prolungata Della politica La percezione Non irreale E Tremonti Lo sa meglio Di ogni altro È che molte Delle decisioni Debbono essere Perlomeno condivise Con Bruxelles Se non dettate Da Bruxelles L'estate scorsa La lettera Della BCE Che ancora Stiamo tentando Di onorare Perché poi si dice Monti Fornero Ma in realtà Quasi tutto Sta nella lettera Trichet Draghi E quindi Lo spazio Per la politica Per la politica Fatta di decisioni Alla luce Di un dibattito Interno O alla luce Di ideologie Quella politica Sia Non dico morta Ma messa in fuori gioco Per un lungo periodo Con rischio Che le nuove generazioni Che non conoscono Il passato Quando l'ideologia Anche perché non ha fatto Una mazza Quando si cominciava A vedere Quello che stava succedendo Questo è il punto Allora Siccome il tema È importantissimo Non vogliamo Diciamo così Interrompere Il momento Che insomma Mi sembra interessante Allora farei una cosa Diamo la pubblicità Subito dopo Vediamo Lo sviluppo Di Inside the Job Ripeto Il documentario Sony Che ha vinto L'Oscar Bellissimo Secondo me Tra l'altro In Italia Potete vederlo Comprando Il DVD Da Feltrinelli Vederlo tutto intero Dà veramente Una mole Di informazioni Straordinarie Quindi vediamo La seconda parte Poi vediamo Se riusciamo A rompere L'imperturbabilità Di Tremonti Facciamo parlare Un po' Di cose Sanguinolenti Italiane Diciamo Vediamo Allora Subito dopo La pubblicità Durante la bolla Le banche Di investimento Prendevano Prendevano Molti soldi In prestito Per comprare Più prestiti E creare Più CDO Il rapporto Tra i soldi Presi in prestito E i soldi Delle banche Veniva chiamato Rapporto Di indebitamento Più prestiti Ricevevano le banche E più alto Era il rapporto Il rapporto Di indebitamento Nel sistema finanziario Diventò Assolutamente spaventoso Le banche Di investimento Avevano Un rapporto Di indebitamento Di 33 a 1 Vuol dire Che anche Solo una diminuzione Del 3% Del loro patrimonio Di base Avrebbe potuto Lasciarle insolventi Nel 2004 Henry Paulson Amministratore Delegato Della Goldman Sachs Fece approvare Alla commissione Per i titoli E gli scambi Un aumento Dei limiti Sul rapporto Di indebitamento Permettendo alle banche Di avere ulteriori prestiti Queste sono le società Che si occupano Di derivati Dobbiamo sapere Se sono a loro agio Con i limiti stabiliti Le società Hanno detto Che il numero Era Appropriato I commissari Sono d'accordo A votare Per adottare Gli emendamenti E le nuove regole Sì Siamo d'accordo È un anime La seduta È sospesa La Goldman Sachs Vendette almeno 3.1 miliardi di dollari In CDO Nella prima metà Del 2006 Buongiorno Benvenuti Alla Casa Bianca Ho il piacere Di annunciare Che nominerò Henry Paulson Segretario del Tesoro Ha una conoscenza Intima Dei mercati finanziari Ha guadagnato La sua reputazione Per l'integrità Potreste pensare Che sia stata dura Per Paulson Adattarsi a un più modesto Salario governativo Ma accettare il lavoro Come segretario del Tesoro Fu la migliore decisione Finanziaria Della sua vita Dovette vendere Le sue azioni Della Goldman Valutate 485 milioni Di dollari Per lavorare Con il governo Ma grazie a una legge Voluta da Bush padre Non pagò nessuna tassa Risparmiò 50 milioni Di dollari Alla fine del 2006 La Goldman Aveva fatto Un passo avanti Non solo vendeva a CDO Ma cominciò a scommettere Attivamente contro di esse Mentre allo stesso tempo Le spacciava ai clienti Come investimenti Di alta qualità Comprando i credit Di full swap Della AIG La Goldman Poteva scommettere Contro le CDO Che non possedeva E venire pagata Quando le CDO Crollavano La Goldman Sachs Comprò almeno 22 miliardi di dollari Di credit di full swap Dalla AIG Era così tanto Che la Goldman Realizzò che la AIG Stessa poteva finire In bancarotta Quindi spese 150 milioni di dollari Per assicurare se stessa Contro un potenziale Collasso della AIG Poi nel 2007 La Goldman Andò anche oltre Cominciò a vendere CDO specificatamente Disegnate In modo tale Che più soldi I clienti perdevano E più la Goldman Ne guadagnava Avete venduto 600 milioni di dollari In azioni Timberwolf Prima di darle via Questo è quello Che i membri Della vostra squadra Di vendite Si dicevano L'uno con l'altro Cavolo Quel Timberwolf Era proprio Un affare di merda Quella era una mail Che mi era stata Mandata a giù E lei ha chiamato La Timberwolf Dopo la transazione No no Avete venduto La Timberwolf Anche dopo l'email Abbiamo continuato Anche dopo Sì Ok La prossima email Guardate Luglio 2007 Dice agli addetti Di vendite La priorità È la Timberwolf La vostra priorità Da vendere Era quell'affare di merda Se avete un interesse Opposto a quello Del vostro cliente Non avete il dovere Di riferirglielo Se avete degli interessi Contrari È una domanda Signor Presidente Vorrei capire Cosa intende Per interessi contrari No lei ha capito E non vuole rispondere Lei crede Che abbia il dovere Di agire Nel miglior interesse Dei suoi clienti Come ho già detto Senatore Io insomma Abbiamo il dovere Di servire I nostri clienti Mostrandogli I prezzi Sulle transazioni Che ci chiedono Di fargli vedere E che cosa ne pensa Riguardo al vendere azioni Che voi stessi Reputate Tacca Non le dà fastidio? Credo che Ah dice ipoteticamente No dico sul serio Non lo so Ne abbiamo parlato prima Beh Ne abbiamo parlato prima È un affare di merda È uno schifo Io Non ho sentito niente oggi Non riesco a pensare a niente Che sia andato storto Secondo lei Non c'è un conflitto Quando si vende qualcosa A qualcuno E poi si è determinati A scommettere Contro quella stessa azione E non viene riferito niente Alla persona Alla quale è stata venduta? Non vede il problema? Nel contesto Di intermediazione finanziaria Non è un conflitto Quando ho letto Che i suoi impiegati In queste e-mail Scrivevano Dio che affare di merda Dio che schifezza Ha provato qualcosa? Io ho pensato Che quelle affermazioni Sulla mail fossero spiacevoli Non è imbarazzato? È molto spiacevole Non la prenda Nel modo sbagliato E sull'e-mail Che cosa prova al riguardo? Credo che sia stato spiacevole Per tutti Averlo detto in qualsiasi forma Sapeva che le società concorrenti Erano impegnate In simili attività? Ah sì E anche più di noi In molti casi Un gruppo che aveva acquistato Questi titoli senza valore Era il sistema di pensionamento Dei pubblici impiegati Del Mississippi Che forniva benefici mensili A oltre 80.000 pensionati Persero milioni di dollari E denunciarono La Goldman Sachs Nessuno di questi titoli È stato emanato Senza un permesso ufficiale Senza l'approvazione Delle agenzie di rating Le tre agenzie di rating Moody's Standard & Poor's E Fitch Guadagnarono miliardi Dando il massimo Dei voti A titoli rischiosi Moody's La più grande agenzia di rating Quadruplicò i suoi profitti Tra il 2002 E il 2007 La Moody's E la Standard & Poor's Venivano ricompensate Sulle basi dei rating Che davano E più AAA davano Più alti erano I guadagni per la società Immaginate di andare Al New York Times E di dire Se mi scrivete Un articolo positivo Vi pago 500.000 dollari Se non lo fate Non vi do niente I rating esprimono un'opinione I nostri rating Sono la nostra opinione Opinioni Opinioni Non sono altro che opinioni Credo che abbiamo Enfatizzato il fatto Che i nostri rating Sono opinioni Ricorda quando ha pensato Per la prima volta La situazione è pericolosa È davvero grave Me lo ricordo bene Credo che fosse al G7 Del febbraio 2008 Mi ricordo Che ne stavo discutendo Con Hank Paulson Mi ricordo chiaramente Di avergli detto C'è uno tsunami In arrivo E lei Ci sta chiedendo Quale costume da bagno Indossare Qual è stata la sua risposta Cosa le disse È tutto sotto controllo Stiamo osservando La situazione Attentamente E sì È sotto controllo Continueremo a crescere Ok Ovviamente Come dico sempre Se si continua a crescere Non si è in recessione Giusto? Insomma Lo sappiamo tutti Il 7 settembre 2008 Henry Paulson Annunciò il rilevamento federale Di Fannie Mae e Freddie Mac I due giganti Del mercato dei mutui Sull'orlo del collasso Dopo due giorni La Lehman Brothers Annunciò perdite record Di 3.2 miliardi E le sue azioni Crollarono La Lehman Brothers Ebbe una A2 Pochi giorni prima di fallire La AIG Una doppia A Pochi giorni prima Di ricevere aiuto dal governo La Fannie Mae e la Freddie Mac Una tripla A Quando furono salvate La Citigroup La Merrill Avevano dei rating Di investimento alti Ma com'è possibile? Beh È una bella domanda Quando le è stato detto Per la prima volta Che la Lehman Sarebbe finita in banca rotta? Dopo il fatto Dopo il fatto? Ahà Wow Ok E Qual è stata la sua reazione Quando l'ha saputo? Porca vacca La AIG Era un altro componente vitale Se si fosse fermata Anche gli aeroplani Avrebbero smesso di volare Il 7 settembre Il governo assumeva Il controllo della AIG Il giorno dopo Paulson e Bernanke Chiesero al congresso 700 miliardi di dollari Per salvare le banche L'intero sistema si bloccò Ogni parte del sistema finanziario Ogni ingranaggio Del sistema di credito Nessuno poteva avere un prestito Un arresto cardiaco Del sistema finanziario globale Sto affrontando problemi Che esistevano prima di me Gestisco Insomma Ho a che fare Con le conseguenze di cose Che sono state fatte Molti anni fa Quando la AIG Ricevette gli aiuti Ai proprietari Di credit default swap Tra cui spicava La Goldman Sachs Vennero pagati 61 miliardi Paulson Bernanke E Tim Geithner Costrinsero la AIG A pagare il prezzo intero Invece di negoziare Prezzi più bassi Alla fine Tutto ciò Costò ai contribuenti Oltre 150 miliardi Di dollari Che cosa si aspettava Da lui Che cosa avrebbe dovuto dire Secondo lei Era uno degli avvocati Che sosteneva La proibizione Della regolazione Dei credit Di default swap E anche L'abolizione Dei limiti Del rapporto Di indebitamento Delle banche Certo Ma che cosa Ha mai menzionato Quelle cose? Non ho mai sentito Potete spegnere Un secondo Quell'affare Quando la compagnia Andava bene Guadagnavamo molto Quando la compagnia Non andava bene Guadagnavamo meno Gli uomini Che avevano distrutto Le loro stesse compagnie E portato il mondo Nella crisi Si allontanarono Dai rottami Con le loro fortune intatte I cinque più alti dirigenti Della Lehman Brothers Guadagnarono Oltre un miliardo di dollari Tra il 2002 E il 2007 E quando la società Finì in banca rotta Poterono ottenere I loro soldi Il sistema funzionava Non ha senso per noi Fare un prestito Che finirà col fallire Perdono loro Il mutuatario La comunità E perdiamo noi L'amministratore delegato Della Countrywide Angelo Mosilo Guadagnò 470 milioni Tra il 2003 e il 2008 140 dei quali Per aver venduto Le sue azioni Della Countrywide Nei 12 mesi Prima del suo collasso Bene Allora Intanto Giulia Dici qualcosa tu Sì Michele All'inizio hai denunciato Quello che stanno subendo Gli operai della FIOM Che non vengono richiamati Nella FIAT Per la loro tessera sindacale Sono tantissimi Sulla nostra pagina Facebook E su Twitter Che si stanno rivolgendo Al presidente Napolitano Che è il garante Della Costituzione Per fermare Questa violazione Della Costituzione C'è chi poi Chiede un boicottaggio Della FIAT Chi dice che bisogna Scendere in piazza Però Si stanno rivolgendo Tutti a Napolitano Bisognerebbe solo chiedere Qualche ragguaglio Su quello che sta succedendo Però Qualche autorevole domanda Insomma farebbe bene E poi Michele Abbiamo chiesto Se Viste le tesi di Tremonti E i riferimenti Al socialismo Se Tremonti È diventato di sinistra E in realtà Il 93% Di quelli Che hanno votato Sulla nostra pagina Dicono che no Tremonti Non è diventato Di sinistra Insomma Questo è rassicurante Diciamo Da tanti punti di vista Allora Facciamo una cosa Riprendiamo Il discorso di Mentana Riprendiamolo Da due punti Di vista Diciamo Molto diversi Per sentire Tremonti Incalzato Diciamo Da voi Allora Comincerei da Emanuele Che ormai Già conosciamo La domanda di Mentana Era Dal 2000 Già si capiva Che cavolo Stasse accadendo Come mai La politica Si è dovuta Poi arrendere Non ha fatto niente Qual è la tesi Di Emanuele Ma secondo me Bisogna fare un attimo Di attenzione Nell'analisi Io in viaggio Mi sono letto Il libro di Tremonti Per bene Che è interessante L'ho trovato interessante Però Mi vorrei soffermare Sulle cose che Tremonti Non dice E che secondo me Tremonti non dice Non perché non conosce Ma perché Non vuole discutere Perché sono degli argomenti Particolari Scomodi Che ci possono fare capire Che Tremonti Non è ritornato socialista Per davvero La prima cosa È che leggendo La prefazione del libro Sono stato molto impressionato Pensavo l'avesse scritta Avendola Cioè l'ho trovata L'ho trovata anche molto bella Molto ben scritta Con queste immagini Immagini molto forti Quello su cui Non sono d'accordo Nell'analisi Con Tremonti È che questa Questa la globalizzazione Questa globalizzazione Della finanza Avvenga negli anni 90 Ecco secondo me La storia è un po' più complessa Ed inizia negli anni 80 Inizia negli anni 80 Quando L'economia reale Quella di cui parlava Mentana Si svincola Da quella Finanziaria E quando succede questo? Questo succede Il tipping point Come lo chiamerebbero gli inglesi Ma è il punto più forte Nel 1986 In Inghilterra Quando Margaret Thatcher Deregolamenta Le banche Margaret Thatcher E tutto il filone Di pensiero Seguono tutto un filone Di pensiero Rispetto alle deregolamentazioni Quindi La politica conta Contava tantissimo La politica Ha stappato Il vaso di Pandora A un certo punto Ha deciso Guardate Lasciamo libera La finanza Di fare il suo corso Torniamo indietro nel tempo Come dice giustamente Come dice giustamente Tremonti Quando richiama Il Glastical Act Del 1933 E la politica E la politica Di Roosevelt Tremonti Cita anche delle ricette Su alcune delle quali Io sono d'accordo La prima ricetta Appunto è quella Di tornare a una regolamentazione Più forte della finanza E penso che su questo Insomma A questo punto Nessuno Possano essere d'accordo Dare all'interno Dell'Ox Un quadro di riferimento Più importante E terzo La storia degli eurobond E degli investimenti europei Sulla quale penso che Ancora una volta Una cosa alla volta Sennò diventa complicato Seguire questi ragionamenti Non ci avvitiamo Diciamo Nei discorsi Che poi Si è arrivato Di seguire in pochi Allora Molto semplicemente Quindi Da un lato Tremonti dice Tre cose Una quarta Ma tre cose fondamentali Prima di tutto Torniamo alla legislazione Al controllo della finanza Degli anni 30 Quindi Controlliamo con più forza Il movimento di questi capitali Regoliamo il mercato Non lasciamo libero il mercato Perché questo è stato Insomma Come dire Deve essere libero Però ci vogliono anche Delle regole chiare Per impedire Che trasbordi Esatto Punto due Introduciamo Un decalogo All'interno dell'Ox Che spieghi ai paesi Come comportarsi Cioè Come imporre Trasparenza E regolarità Nelle operazioni finanziarie Quindi Troviamo Un quadro di riferimento Nell'Ox Ma anche nell'Unione Europea Il libro parla lungamente Anche di questo E il terzo punto È quello degli Eurobond Cioè utilizzare L'emissione di Eurobond Per finanziare Infrastrutture All'interno Dell'Unione Europea Casarini Ma tutto questo Tutta questa discussione Avviene mentre c'è gente Che ci sta lasciando la pelle Qui In Grecia Tutti stanno aspettando Queste decisioni Dell'Europa La cosa pazzesca È questa Che Avviene questa discussione Sembra surreale Uno perché Voglio dire Qualcuno è stato Ministro dell'economia Negli ultimi dieci anni Di questo paese Per cui Leggere la prefazione Del libro Dove c'è scritto Io queste cose Le ho dette E le ho scritte Sempre A tutti i vertici Eccetera Ma allora Nessuno proprio Ascoltava Cioè nel senso Che assolutamente Quindi rende anche L'immagine Non solo di una politica Che non c'è Ma anche di una finzione Rispetto alla funzione Che ha un ministro Di questo paese Perché avrebbe dovuto dirlo Guardate non mi ascoltano Non mi ascoltano E invece non mi pare Ma ha detto di più Ha scritto che Tranne un'occasione Diciamo i vertici Erano veramente una Come dire Una specie di Dichiarazione di impotenza Cioè Questi rappresentanti Degli stati Si riunivano E poi alla fine Non riuscivano A decidere niente Ma però Non mi pare Che la discussione pubblica Negli ultimi dieci anni Sia stata questa Addirittura Io mi ricordo invece Di una discussione pubblica Che diceva Non c'è nemmeno la crisi È un problema psicologico Della gente Secondo elemento Fino all'altro ieri I nostri conti Anzi Uso proprio Le parole giuste I nostri conti Sono in ordine I nostri conti E siamo più forti Che siamo più forti Degli altri Eccetera Detto questo Secondo elemento Ma questa visione Della politica Come ostaggio Della finanza Ma da dove Da dove si prende La politica La finanza E l'economia reale Dentro il processo Di globalizzazione Sono una cosa sola Questa è la verità Cioè nel senso Che tutti Tutto questo complesso Arcipelago Ne ha tratto Dei grandissimi Vantaggi Anche personali Dalle scelte Che sono state fatte Si sono arricchiti Loro E sono diventati Più poveri La stragrande maggioranza Dei cittadini Dell'altro giorno Il dato 112 milioni Di cittadini europei Sono a rischio Povertà Su 450 milioni Di cui Quasi un quinto italiani Allora Il problema è questo Non c'è una politica Che poverina È stata messa In ostaggio Dalla finanza Non esistono I governi tecnici In quanto tali Qualcuno L'aveva detto Molto prima di me Sono scelte politiche Perché tra l'altro Questa è una crisi sistemica Cosa significa? Significa che La politica Per chi la vuole fare Per passione Non per professione Per arricchirsi Eccetera eccetera La politica dovrebbe dire Qui bisogna cambiare sistema Invece si continua Ad alimentare questo sistema E la soluzione qual è? Andare fino in fondo Nella devastazione Dei beni comuni Altro che il bene comune Il governo precedente Il bene comune Sapete che cos'è? Aver mandato l'esercito In Val di Susa Questa è la difesa Del bene comune Cosa dice Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? E scusi E finisco Scusi Io non avrei mai pensato In vita mia Di potermi confrontare Con il ministro Tremonti Perché l'ultima volta Lui era a fare la foto Col G8 E io ero dall'altra parte A Genova Dove c'è morto Anche Carlo Giuliani Per queste cose qua Per queste cose qua Non è che la gente C'è Lei nel libro Economia reale E non economia fittizia Io parlo anche di vita reale Andiamo avanti Vita reale Andiamo avanti Tremonti Intanto io non ero Al G8 A Genova Tiè Era un derivato Ci è arrivato poco dopo Un derivato Io credo che sia giusto Come è stato messo E cioè dire Siamo in una fase drammatica Siamo un tornante della storia È una fase che l'umanità Non ha mai visto In questi termini Quando dico l'umanità Non dico Roma L'Italia Dico il mondo Primo Mai Come la vedo io Poi uno può avere altre visioni La terza E mica la terza Io sono convinto del fatto che Tutto cambia Quando Caduto il muro di Berlino Si pensa che debba essere definita Una nuova geografia piana E mercantile del mondo Nell'89 cade il muro di Berlino Nel 94 A Marrakesh In Marocco Viene definito Il nuovo ordine del mondo Con il war trade L'idea che La divisione ideologica Comunismo Non comunismo Del mondo Può essere superata Da un nuovo criterio Di commercio Nel mondo Nel 95 Io ho scritto un libro Che era intitolato Il fantasma della povertà Allora si diceva La globalizzazione Con il mercato Porta ricchezza In quel libro si diceva Porta ricchezza In alcune parti E povertà Nelle altre E ne farò dono O coppia A Casarena Nel 2001 L'Asia Entra nel war trade E cambia davvero il mondo Perché tutto il mondo cambia E mai nella storia Nella storia dell'umanità Un cambiamento Così forte È avvenuto In un tempo così L'organizzazione mondiale Del commercio Io penso Che la globalizzazione Fosse non evitabile Che sia in sé buona Ma fatta In tempo così breve E così forzato È stato E adesso Anche gli autori Lo ammettono È stato un errore Che cosa c'è stato dietro Una ideologia Positiva Di sviluppo E di progresso Gente che in buona fede Pensava che Questa fosse la via giusta Per l'umanità Enormi interessi economici La combinazione di questo Ha portato A un cambiamento Che sta Secondo me Non negli anni 80 Ma come è stato detto Negli anni 90 Forse anche gli anni 80 Hanno influito Ma la Thatcher Pensava che il mondo Fosse uguale E dovesse restare uguale Con Il muro di Berlino Quando cade il muro di Berlino Alcuni grandi leader Occidentali Vanno nella Germania Comunista Per tenerla in piedi Quindi non è vero Che c'è quel legame Secondo me Il grande cambiamento Dell'umanità Non è la Thatcher È la caduta Al muro di Berlino Volevo dire che la Thatcher Ha deregolamentato le banche E deregolamentando le banche Ha portato fuori Quegli spiriti animali Che oggi vediamo In azione Può essere Ma secondo me È come dire Un pezzo della storia La grande storia Cambia Quando Caduto il muro Il mondo Prende una via diversa È in quegli anni Che si definisce Un nuovo assetto Del mondo E secondo me Ci sono tre cose Che hanno poi portato Ai fatti che vediamo E che subiamo Primo Una nuova geografia La globalizzazione L'idea che tutto è mercato Piano Senza barriere Senza limiti Secondo La tecnologia Internet Cioè la finanza Che noi vediamo Alla sua patria Nella rete Ed è lì Che crei la ricchezza La nuova ricchezza Capitalismo Deriva dal latino Caput E Caput È il capo di bestiame Per indicare Il limite Fisico Finito Della ricchezza La ricchezza Capitalistica È comunque Quella che è In natura Il nuovo capitalismo Trascende In verticale In una finzione Tipo Mephistofele La realtà Tu non sei ricco Per i beni che ci sono Sei ricco Per la ricchezza Che inventi E questo è un salto Assoluto E poi La nuova ideologia Che è il mercatismo E cioè Direi l'idea Che il mercato Sta soprattutto Io sono davvero convinto Ma quello Della tercera Può essere L'innesco Del processo Quindi Non fuori Ma non tutto E non il principale E se uno pensa Che la globalizzazione Con tutto quello Che ci è girato intorno Sia Marginale Mentre è fondamentale La politica Agli anni Ottanta Secondo me Non capisce Internet Non c'era Ai tempi della traccia E' un'altra roba E da lì Che si inventa La ricchezza Quello che Avviene In quegli anni Se lei legge Impero Di Toni Negri Forse Ho letto Bene Allora Primo Dice le cose Che in un qualche modo Cerco impropriamente Di dire io Cioè Il nuovo ordine Del mondo Impero Modifica La struttura Della politica La politica Fa l'ultima Grande scelta La facevamo socialista Invece addirittura Vede Santoro Nel terzo blocco Nel terzo blocco Non riesco a immaginare Santoro Le convergenze Santoro Se lei ha letto Se lei ha letto La Bibbia Magari O il Vangelo Ma lei non mi dica Che è cattolico E poi ha letto Il Vangelo Quindi ha detto Una stupidata Detto questo Tornando invece C'è al discorso Se uno Guarda un po' E al di là Di dove stanno E' chiaro Che la globalizzazione Ha un impatto Sulla politica Fatta dalla politica La distrugge Perché mette in campo E sprigiona Forze animali Bestiali Che nessun governo Nazionale E' in grado Di controllare Il mercato Diventa globale La politica Dentro il contenitore Degli stati di nazione Resta locale E diventa impotente In gran parte E anche comprata Dal mercato Perché tanti pappagalli Questa seconda parte Mi convince molto Perché questo elemento Diciamo Dello stagio Sarebbe vero Guardi Sarebbe vero Se quelli Che hanno avuto In carichi politici Pubblici E sto parlando In termini generali Globali Non è a questione italiana E basta Pagassero Per quello che è accaduto Qui Noi vediamo Come quello Di Lehman Brothers Se va bene Guadagniamo tanto Se va male Guadagniamo un po' meno Ma non è che Se va male Spariamo E diciamo Scusateci Abbiamo provocato Un disastro Spariamo da sparire Non da sparare Certamente Dica a lui Che legge Tony Negri Tutte queste cose Radicalissime Allora Però non diventa Cattolico Per questo Io volevo solo Chiarire questo fatto Io volevo chiarire Questo fatto qui Anche quest'idea C'è il capitalismo Buono E il capitalismo Cattivo C'è la finanza Cattiva Lei lo sa Che poi ha una tradizione Questa cosa Di dire Il problema È un complotto È un complotto Perché in realtà Allora mi spiega Perché la politica Ha accompagnato Questo processo Come sta facendo In Grecia Rendendo ancora Più precarie Le vite dei precari Ancora peggiore La vita di quelli Che stanno male Non di quelli Che stanno bene Quelli che stanno bene Stanno sempre più bene Diventano sempre meno E quelli che stanno male Diventano sempre di più E queste sono scelte politiche L'austerity Non è Non è una cura Che ci viene Adesso Quello che sta succedendo In Grecia Lei dice C'è una letra Di un socialista Di uno Socialista europeo Che dice Che il Parlamento europeo È d'accordo È d'accordo È d'accordo Con te Il Parlamento europeo Bloccherà la troica Il Parlamento europeo Adesso che ha detto Che è una cosa criminale Quello che sta facendo La bloccherà la troica No La Grecia Gli toccherà subire questo E allora cosa vuol dire questo Vuol dire Che c'è un livello Di insufficienza Di degenerazione Perché è tutto colluso Con questo sistema Bisogna cambiare sistema E anche magari persone Lo fermo un attimo io Cateri Scusi Però no 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 Fermo Tremonti Però volevo dire questo Che lui non l'ha detto ancora Qui non l'ha detto Con questa chiarezza Però diciamo Nel libro c'è scritto Chiaramente Che lui non è convinto Che la strada Della Della austerity Combinata con la recessione Ti porti fuori dalla crisi Ti porti fuori dalla crisi Nel libro c'è scritto Con estrema chiarezza Poi dopo Qua non ce lo dice Qua siamo il paese Vuole diciamo Volare alto Vuole volare sul Santoro Qui siamo un paese Dove si può dire di tutto E fare tutto il contrario Proviamo a tirar dentro Paolo Mieri Che prima l'ha detto Ma c'è un tema Su cui siccome ho sentito La parola complotto No Allora quando sentiamo complotto Paolo Mieri Paolo Mieri Allora Diciamo La questione è questa Emersa in questi Emersa in questi In questi giorni No Cioè tutti i giornali Ne hanno parlato Perché sostanzialmente È stata data Questa versione Del passaggio di mano Di Berlusconi Ai tecnici In qualche maniera C'era stata una sollecitazione Del governo italiano Per chiedere aiuto No All'Europa In quanto noi Facevamo fatica A tenere dietro Insomma Al debito pubblico Alla crescita Degli interessi Diciamo Soprattutto dei nostri Titoli di Stato La BCE Fece la famosa lettera Che ha citato Mentana Di agosto No Nella quale sostanzialmente 4 agosto Diceva come bisogna Governare l'Italia Insomma sostanzialmente Lo dicevano loro D'accordo con la Banca d'Italia Guardate Se volete mettere a posto I conti del vostro paese Se volete fare questo 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 E questo A questo punto Berlusconi Che pure in qualche modo Aveva sollecitato Perché voleva Insomma che l'Europa Ci dicesse di fare le cose Perché Quella lettera Che doveva essere chiesta Perché ha avuto sempre Una certa renitenza A prendere Provedimenti Popolari Allora se io dicevo Allora se io dicevo L'Europa Lo doveva fare per forza Guardate che Un baraccontino Questo qui Poi io cerco di farlo In maniera che tutti Possano capire Senza citazioni Troppo Troppo alte Che cosa fa Berlusconi Io riunisco La mia task force Brunetta Romano E quant'altro Mettiamo lì Facciamo un bel programmino Per andare Al G20 Presentarci Con le carte in regola E dire Guardate che noi in Italia Vogliamo fare questi cambiamenti Queste riforme Adesso Questi qua Dicono che sostanzialmente Che avevano Già previsto Di fare tutto quello Che sta facendo Monti Anche quello che Monti Non farà Cioè loro avevano previsto tutto Tanto insomma È facile dirlo Diciamo a questo punto Della storia Ma comunque Sicuramente Berlusconi Voleva andare A questo incontro Avendo queste carte Prima che si riunisce Il Consiglio dei Ministri Tremonti Viene chiamato Dal Presidente La Repubblica Napolitano Correggimi se sbaglio Napolitano Che l'ha raccontato Esatto Cioè In maniera ufficiale Viene chiamato Lì si incontrano E sostanzialmente Adesso Il portavoce di Napolitano Dice È stato Tremonti A dirci Che stavano facendo Un tale pateracchio Sostanzialmente Con questi provvedimenti Mentre invece Bisogna fare poche cose Chiare Perché altrimenti Andavamo A gambe All'aria Allora Dice Napolitano Avendo ascoltato Tremonti Per questo motivo Ho detto No Se ho capito bene Ti interroppo Solo un momento Siccome in quel provvedimento Volevano mettere Una serie di altre Schiefe Credo che Tremonti Abbia Chiesto Che fossero separate Le cose urgenti Da fare in economia Da tutto quel porcaio Che veniva messo Esatto Quindi Napolitano Diciamo In seguito a questo fatto Scrive una lettera A lettera Che non si può fare E dice Guardate È inutile che fate Questo decreto Diciamo Dove si infileranno Omnibus Omnibus Perché dobbiamo fare Poche cose serie Veloci E efficaci Però questa Diciamo Questo impedimento Di Napolitano Sarà La ragione Per la quale Berlusconi Non potrà andare Con questo famoso Questo famoso Programma di cambiamento Insomma All'incontro Con i grandi Ed è ma Comincerà poi La sua crisi Che porterà Alla sostituzione Di Berlusconi Con Monti Allora Tesi della destra Cioè dei giornali Di destra È Tremonti È L'assassino Del governo Berlusconi Cioè questo Tradotto in termini Il killer Del governo Berlusconi La mia domanda È un osservatore Diciamo che cerca Di essere imparziale Come te Non parziale Come io sono Ma Qual è Insomma È È È È plausibile Questa A me sembra Francamente Una sciocchezza Se posso dire Con chiarezza Quello penso io Che Tremonti Si sia impallinato Diciamo Berlusconi Così Non sta Né in cielo Né in terra Perché in realtà E lo vediamo Da come Obama Sta accogliendo Monti Lo vediamo Da come Marchionne Parla bene Di Monti Diciamo Si erano messi In cammino Delle forze importanti Anche tedeschi E francesi Che non ne votevano più Di Berlusconi E volevano Diciamo Sostanzialmente Che ci fosse un cambiamento Questa è la realtà Non è che Tremonti Ha fatto il killer Tremonti Sicuramente Non lo sopportava Più Berlusconi Berlusconi Non sopportava più Tremonti Insomma Lo diciamo noi E lei faccia finta Ma non dovevamo parlare di altro Che dice Che dice Ma che non c'è nel libro Sta roba Scusa No Non c'è la parola Italia No C'è un particolare Che non è Non è nella tua Il senso della domanda è È più Globale L'origine di questa Questa cosa Più importante Di queste Beghe Diciamo italiane O no La crisi Non Se continuassi a parlare La crisi Non meriterebbe Di parlare Neanche un secondo Di questa vicenda Ma siccome L'hai chiesto E non ho motivi Di essere reticente Devo aggiungere Un particolare Però tu l'hai detto Poi parleremo un po' Delle cose italiane Io non è che solo Capisco che Quando leggo il Vangelo Bruno Tabacci In un dibattito pubblico Dopo l'uscita del libro Con Tremonti Ha raccontato Un episodio Inedito Cioè ha detto Che lui A nome del terzo polo Andò da Tremonti A dirgli E Tremonti non l'ha smentito Era là davanti A dirgli Ma dai muoviti Buttalo giù tu Questo per lo scuola Noi siamo pronti Ti diamo l'appoggio Di tutti quanti Poi hanno lasciato cadere Non hanno approfondito Il discorso Però Lei ministro Non l'ha corretto Quando ha detto Queste cose in pubblico Ma mica devi Correggere tutto Vabbè Diciamo Io interpreto Il silenzio Come un silenzio Senso Ma comunque Le fa onore Questa cosa Nel senso Che sei mesi prima Tremonti Era guardato Visto come se fosse Monti C'è stato un periodo Prima dei casi Che sono venuti dopo Il caso milanese Di cui non parliamo Ma Tremonti Era Monti E tutti La sinistra Il centro Andavano in processione Più o meno esplicitamente Scrivevano Sui giornali Per spendere di più Era lui L'uomo No Non solo per spendere di più I suoi ministri Che cercavano Ma gli altri Lo vedevano come l'uomo Che poteva traghettare Un eletto Del centro-destra Traghettare Senza ricorso Ai tecnici La situazione Nel post-berlusconismo Poi E lui Questo episodio È importante Perché lui In quel momento Stando a Tabacci Che glielo rinfacciava Lo rimproverava Era molto Lui disse no Non fece un atto Di slealtà Quando Poteva essere Andare in giro A poveneggiarsi Il 9 luglio Il badoglio Visto che non Potevi essere il badoglio No grazie Allora Ha risposto no grazie Secondo me è stato saggio Secondo me è stato saggio Messo che la ricostruzione Sia vera Perché Lo avrebbero portato In trionfo I 10 minuti Per Che accompagnavo La cazzo del Berlusconi E poi Insomma Oggi non saremo qui Con Tremonte Quindi è stato Saggio E comunque Il che non guasta Leale Ma proprio perché Fu leale Allora Mi sembra Strano Cioè Il Quirinale Ha ricordato i fatti Così come li hai descritti tu Però mi sembra Strano Che vada a dare Il colpo di pugnale Del tradimento Per Fare il governo Monti Il governo Monti era pronto Da molto prima Scusa Ministro Da molto prima Che Tremonti Andasse Al Quirinale Nel senso Che era stato Preparato Come un paracadute Si era detto Se ne era parlato Anche sui giornali Non era un mistero Che E la situazione Era tale Che in quel momento Se cadeva Il governo Berlusconi Così come sembrava Stessa cadendo C'erano delle forze Che Erano disponibili A mettersi in campo E a Accompagnare La legislatura Per quello che rimaneva Cioè un anno e tre mesi Un anno e sei mesi E poi Questo è il dettaglio Più importante Di cui parleremo Nei prossimi sei mesi Andarsene Cioè Questi Il patto Era Che loro Avrebbero fatto Da ponte Per la restituzione La politica E lì Quello è l'appuntamento È l'appuntamento Fondamentale Di tutta questa vicenda Se poi il pallino Tornerà alla politica Cosa di cui io A giorni alterni Dubito Cioè un giorno Pensi sì Un giorno di no Sì Un giorno penso di sì E due di no Anche perché Riflettendo sulle cose Di cui abbiamo parlato Poi adesso Io sono Mi sono fatto La convinzione Ristudiando Che questa Sospensione Della politica Non data Da un anno Dall'inizio Della crisi Ma data Da vent'anni Cioè la crisi Della prima repubblica È la crisi Della politica È la crisi Della politica La politica Non è mai rinata Perché a destra C'è stato C'è stato Un signore Importantissimo Di cui si parlerà Sui libri di storia Ma che abbia dato Moltissimo Ai fatti suoi Molto Molto Ai fatti suoi E la sinistra Non ha dato Una risposta politica Se noi pensiamo Non abbiamo capito Nessuno Chi è Non mi viene in mente Io il nome E la sinistra Guardate che ancora In questi giorni Durante questa crisi Discute Su quale Banchiere O ex banchiere Debba essere Il suo prossimo leader Se è Profumo Passera Bazzoli Cioè la sinistra Ha questo grovello Mi piacciono le banche E me Io Che sono Uno studioso Di storia Che si prepara Un futuro di destra Diciamo Perché Sanno quelli Che criticheranno Le banche La rivoluzione Ma Può darsi Però io vedo Appunto Da una parte Un insediamento Che è ancora Saldamente presidiato Da quei signori Di cui non ricordo il nome E dall'altro Un grande dibattito Su a che banchiere Affidarsi Allora Tre volte A parte che lei È un po' Rabdomante Perché Ha citato delle cose Che Non so perché Insomma c'è In arrivo Una notizia E devo dire Non so se Se fosse vera Sta notizia Caro Mentano E il fatto che L'ha trovata Ma insomma Fra poco ci vediamo Di che cosa si tratta Io Ho avuto solo Qualche accenno Adesso che sono andato Di là Mi sembra una roba La prendiamo Con le dovute Cautela La sentiremo insieme Fra poco Però volevo chiedere Lei può commentare O non commentare Questo duetto Tra me e Paola Mier Può dire Non commenta E non ce ne importa Niente Però Una cosa Lei ce lo deve dire Cioè Il segno che ha Questo intervento Diciamo Della Germania In primo luogo E anche della Francia Nelle vicende europee E a che cosa Potrebbe portare Questo Casarin Chi ha fatto cosa? Lei ha fatto La rivoluzione E si ritrova qua No no Non l'ho fatta Insomma L'ha predicata E poi alla fine Però molto civilmente Non è ancora successo Esatto Però nel frattempo Si ritrova qui Civilmente A parlare in televisione Con tutti noi Che cosa Lei dice La politica Non c'è stata E io Credo che sia giusto La politica Chi ha lanciato La globalizzazione Ne è rimasta Artefice Vittima del suo destino Anichilita In parte Asservita Con alcune eccezioni Che ci sono state Perché alcuni grandi Ci sono stati Anche dopo Gli anni 90 E Alcune cose Sono in atto Io ho detto Il Parlamento Europeo Nel Parlamento Europeo Si contesta L'imposizione Di una politica Sbagliata Alla Grecia Passa Non passa Non lo so Però è molto importante Che si cominci A parlare di questo Le posso assicurare Che l'anno scorso Il pensiero unico Comune Era totalmente diverso Cosa ho cercato Di fare io In questi anni Se lei legge il libro In qualche modo Poi anche Anche antipatico Adesso dire Chi ha fatto cosa Io che ci fosse La crisi L'ho scritto Nel 96 Nel 2006 In un libro Che era intitolato La paura e la speranza E diceva Crolleranno le piramidi Di Wall Street Si è visto Che cosa ho cercato Di fare io Da ministro Di un paese Mediamente importante Ho cercato Di dire le mie idee Lei ha visto Una signora In Inside Job Nel libro C'è la lettera Mandata A quella signora E non era Una signora Qualsiasi Aveva la presidenza Dell'Unione Europea La Francia In quel periodo La risposta Non c'è stata Ma la lettera È stata mandata Ed è stata letta Perché aveva Una logica Non personale Mi scusi Signor Tremonti Mi scusi un attimo Perché cerco di capire Lei capisce Che Come dire Di fronte a quello Che sta accadendo Una lettera Mandata Non c'è stata risposta Ma qui ci sono Combedimenti Fatti Scusi dal governo Berlusconi Ma come Dalla dinamica globale Ma mi scusi Ma non è possibile Non è possibile Perché quello che sta vivendo La gente normale È un trauma Non sono lettere Casarinna Abbia pazienza No ma glielo dico Lei Lei L'hai messo così È come dire È troppo intelligente Per credere In quello che lei dice Quando Tu fai Grazie Un bel complimento E beh Era apposta Quando tu cerchi Di fare In Europa Nel mondo La politica Che consideri giusta Che cosa fai Un colpo di telefono Mandi una lettera Poni la discussione Su quei temi È quello che io Ho cercato di fare In tutti i modi Io ho parlato Alla scuola Il partito comunista cinese Ho parlato Ai vertici europei Ho parlato Ora per tutto E ho sempre detto Quelle cose C'è anche il documento E i documenti Preparati dal governo italiano Per quelle sedi C'è qualcosa Che è passato Naturalmente I grandi cambiamenti Non è che avvengono Di colpo Hanno bisogno Di un po' di tempo E non c'è un uomo Che le determina Non c'è il dittatore Del mondo Va bene Devi creare Un consenso Allora È stato detto In sede Ocse Un decalogo Di principi giuridici Quello L'ho fatto fare io E tutti i paesi Dell'Ocse Hanno Sia pure in termini Soft Perché non è ancora Un trattato Hanno firmato Quel catalogo Di principi Secondo me È già qualcosa Naturalmente Un uomo Non può fare Molto di più Ma che un ministro italiano In sede Ocse Proponga E faccia firmare Un catalogo di principi Sulla economia Di integrità Di trasparenza È già qualcosa Naturalmente Diventerà Sono certo Che diventerà Un trattato Va bene Quando non lo so Chi lo firmerà Non sarò io Perché sarà Tra tanto tempo Ma è un cammino Che va Nella direzione giusta Dopo ci dice un po' Gli eurobonda Gli eurobonda Sono un'idea No 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 Lasciamolo Gli eurobonda Direzione giusta Se le conosce uno Che ha la dittatura Del mondo I pieni poteri Ma non può Rimproverare È uno Che ha cercato Di introdurre delle regole O quelle cose E non ha fatto niente Non abbastanza Possibile Ma niente no Beh Un attimo solo Si ripassi Il pezzo del libro Sulla BCE Che diventa importante Spiegarcelo Qual è la sua posizione Insomma Che cosa pensa Perché questa Questa banca Che è una Diciamo È una banca Non è una banca Si chiama banca Ma insomma È molto poco Banca centrale Per come siamo abituati A pensare A una banca centrale Non so Negli Stati Uniti La banca La federal reserve Negli Stati Uniti No Quindi anche Enrico Mi aiuterà in questo Allora vediamo Che cosa ha scoperto Il fatto Io dico Una scoperta del fatto Chiarisco Non ho avuto il tempo Non è di controllare Non di fare niente Comunque qui c'è Travaglio Se volete menare Travaglio È a vostra disposizione Qui sentiamo Che cosa succede Perché il ruoto L'hanno chiamato È andato di corsa A registrare questa roba Vediamo cos'è Guarda Michele Che siamo nella redazione Anzi nella stanza Del direttore Del fatto quotidiano Antonio Padellaro Perché domani Il giornale Uscirà con una notizia In esclusiva Che farà rumore A livello mondiale Direttore Ci fai vedere Questa prima pagina Di domani La prima pagina Ha questo titolo Vaticano Trame e veleni Virgolette Complotto contro il Papa Entro 12 mesi morirà Si parla nel sommario Di un appunto Consegnato Dal cardinale Castriglion A conoscenza Di Benedetto XVI Che riferisce Quanto detto Durante un suo viaggio in Cina Dal cardinale Romeo Arcivesco di Palermo Potizza un omicidio Beh Il cardinale Romeo Secondo quanto dice Questo appunto Avrebbe riferito Che Insomma Il Papa Correrebbe Sarebbe in pericolo di vita Tanto che In questo appunto Si dice I suoi interlocutori Interlocutori di Romeo Hanno pensato Con spavento Che sia in programma Un attentato Contro il Pontellice L'autore dell'articolo È Marco Lillo Marco Ovviamente Tu sei venuto in possesso Di questo documento Sì Questo documento Che cosa ci dice Che cosa Questo documento Innanzitutto Porta una data Il 30 dicembre Del 2011 È stato scritto In quel giorno Ma è stato consegnato Al Santo Padre Nel gennaio Del 2012 Quindi parliamo Di un mese fa Questo documento Riporta È un report Sostanzialmente Su quello Che è accaduto È scritto in tedesco È scritto in tedesco Probabilmente per evitare Che troppe persone Comprendano Quello che passa Sotto i loro occhi In questo documento Si parla Testualmente Di mord complot Che in tedesco Vuol dire complotto Micidiario Ai danni del Papa Questa è evidentemente Un'ipotesi Riportata come deduzione logica Da parte degli interlocutori Che hanno avuto modo Di parlare In Cina Durante il suo viaggio Del novembre del 2011 Con l'arcivescovo di Palermo Paolo Romeo Questi soggetti Probabilmente Riportano Al cardinal Castrion De Hoyos Anche lui Un cardinale importante Colombiano Anche lui Appunto Anziano Ottantenne Più anziano Di Monsignor Paolo Romeo Riportano Il Castrion Quindi Inquietato Da quello che gli raccontano Queste persone Che Paolo Romeo L'arcivescovo Ha detto In Cina Immediatamente Porta questo appunto Al Papa Per dire Attenzione Da un allarme Sostanzialmente Dice Cosa dice Castrion L'arcivescovo Romeo In Cina Ha detto Che Entro 12 mesi Dal novembre 2011 Ricordiamo La data Del viaggio di Romeo Morirà il Papa Il Papa morirà Ora Romeo non ha detto Che il Papa sarà ucciso Dirà Il Papa morirà E poi ovviamente A questo fa seguire Una serie di ragionamenti Secondo quello che dice Questo documento Romeo fa seguire Una serie di ragionamenti Su chi succederà Sul candidato Il candidato Il Delfino Del Papa A questa successione Che non è da tutti apprezzato In particolare Dice questo documento Non è apprezzato Per esempio Dal segretario di Stato Tarciso Bertone Sarebbe Angelo Scola Attualmente Arcivescovo di Milano Marco Solo una cosa Dato che abbiamo Ecco Avete fatto tutte le verifiche Del caso Cioè Immagino che Di fronte a una cosa così Insomma Avete passato Non so Un pomeriggio Qualche giorno Ci sono addirittura I timbri I sacri timbri Su questo documento I timbri sono giusti Avete controllato Siete sicuri Siamo sicuri Che questo cardinale Ha consegnato Questo appunto In cui dice Che quell'altro cardinale Ha detto ai suoi interlocutori Cinesi Che il Papa morirà In seguito a un complotto Micidiario Poi Non siamo sicuri Ovviamente Anzi Speriamo che non succeda Tutto ciò Sappiamo che questo documento Esiste E sappiamo Perché lo pubblichiamo Integralmente Quello che dice Tradotto in italiano Giulia tu puoi vedere Un po' che situazione Ci sarà su questa cosa Che cosa pensano Anche perché in realtà Già servizio pubblico Questa sera su Twitter Sta esplodendo C'è Tremonti Tony Negri Inside Job Quindi stiamo occupando Twitter Va bene Va bene Va bene Insomma Ancora poco rispetto Diciamo ai sogni Rivoluzionari di Casarini Però insomma Per il momento Ci accontentiamo di Twitter Allora Facciamo una cosa Diamo la pubblicità E subito dopo Sentirete Marco Travaglio Applausi Abbassero un po' il livello Della discussione Mi scuso Immaginiamo un cittadino inglese Che decide Dieci giorni fa Di venire a farsi Una vacanziella In Italia Perché le previsioni meteo Annunciano neve su Roma E lui non se la vuole perdere La capitale d'Italia Tutta imbiancata In volo Si legge i giornali inglesi Che danno la notizia Delle dimissioni Del ministro dell'energia Che l'ha combinata Davvero grossa Pensate Dieci anni fa Ha preso una multa Con l'autovelox Dalla polizia stradale E ha detto Che alla guida C'era sua moglie Così i punti Dalla patente Li hanno tolti a lei E non a lui Poi però Lui ha messo le corna Alla moglie Che si è vendicata E ha svelato Che sulla macchina C'era lui Non lei Indagato Per ostacolo Alla polizia stradale Si è dimesso Ha detto Sono innocente Ma non voglio governare Con la distrazione Di un processo Conflitto di interessi Il nostro turista Inglese Arriva a Fiumicino Trova su un sedile Il libro di Tremonti E poi si copre I giornali italiani Apri il libro di Tremonti A pagina 22 E legge Nella modernità globalizzata Salvo alcune eccezioni Si avvicendano sulla scena Coorti di uomini politici Sempre meno rilevanti Sempre meno consistenti Sempre più grigi Le eccezioni evidentemente Stanno tutte in Inghilterra Poi il nostro Apri i giornali italiani E scopre che in Italia C'è un partito La Margherita Che è morto Nel 2007 Però ogni tanto Torna in vita Per incassare Come gli zombie Per incassare I finanziamenti pubblici Peraltro aboliti Da un referendum Il tesoriere Che è un ex capo scout Luigi Lusi Si è fregato 13 milioni Da un conto Che ne aveva 20 Con 90 bonifici Per imprecisate E inesistenti consulenze Poi ha confessato Ai magistrati Ha chiesto di patteggiare E ha detto Li ho presi Perché mi servivano Gli servivano E li ha presi A fare cosa? Non posso parlare Perché c'è il segreto Istruttore Cioè ti accusano di rubare E tu rispondi È un segreto Il turista inglese Va avanti a leggere Perché si diverte Sempre di più Il segretario Del nuovo partito Di Lusi Bersani Dice Se emergessero Ove mai Responsabilità individuali Se ne occuperà La commissione di garanzia Come se emergessero Ha confessato Che ti serve di più Per provvedere Sul conto corrente Depredato C'è anche la firma Dell'ex segretario Della Margherita Rutelli Che si è detto Incazzato nero Ma ha anche precisato Che dagli estratti conto Lui non si era accorto Di niente Faccio il politico Mica il ragioniere E già solo un ragioniere Può accorgersi Se da un conto corrente Di 20 milioni Ne spariscono 13 E solo se sta molto attento Altrimenti Gli scappa anche a lui Dice il nostro turista inglese Adesso si rimetterà qualcuno Almeno quello che è scappato Con la cassa E invece no Anche perché il posto più sicuro Dove scappare con la cassa È il Parlamento Chi si muove di lì Lusi però fa uno sforzo E si autosospende dal PD Che alla fine riesce Persino ad espellerlo Lui protesta È una scelta Volutamente infamante Dice E rimane alla Camera Però passa al gruppo misto Dove incontra Rutelli Che pure lui Nel gruppo misto Il turista pensa Adesso arriverà la polizia E porterà via qualcuno Non si può In Italia Per arrestare i parlamentari Bisogna chiedere il permesso Ai parlamentari Che lo negano regolarmente Però la Guardia di Finanza Ci arriva comunque Allo sportello Della BNL Del Senato Dove ci sono I famosi conti Depredati Della Margherita Ma il Presidente Schifani Inorridito Lui è Tra parentesi Indagato per mafia A Palermo Consulta la Giunta Per le immunità E poi mette alla porta I finanzieri Dicendo che la loro visita È irrituale Già perché le Camere Godono di extraterritorialità E persino i conti correnti Bancari Sono coperti Dall'immunità parlamentare Come i loro titolari È una forma di immunità Contagiosa Che si estende Ormai A tutto e a tutti Cioè Domanda il nostro turista inglese Nel Parlamento Italiano Possono restare i ladri Ma se arrivano le guardie Le cacciano immediatamente A pedate Esattamente Finalmente a Roma Arriva la neve Lui è tutto contento È venuto apposta Si sapeva L'aveva visto al meteo E va in giro per Roma Per vedere Chissà quanti spalaneve E spargi sale Useranno nella capitale d'Italia Almeno quanti ne usano a Londra Invece neanche uno A Roma Accende la televisione E vede un tipino Con gli occhi piccoli Ravvicinati Lo sguardo penetrante Un preservativo in testa È una pala in mano L'unica in circolazione E si fa l'idea Che sia un ragazzetto burlone Travestito da pisolo Per il carnevale Invece è il sindaco Gianni Alemanno Che strilla Contro la protezione civile Che non lo ha avvertito Della neve E brandisce anche un documento Dice Le prove Mi avevano scritto 35 mm di pioggia La protezione civile Gli spiega Che non sa neanche leggere Perché 35 mm di pioggia Nel linguaggio meteo Sono 35 cm di neve Bastava guardare Le previsioni del tempo In televisione Alemanno dice Navighiamo a vista E qui al turista inglese Viene in mente Il comandante Schettino Che aveva detto La stessa cosa E poi aveva sbagliato La manovra Di alcuni centimetri Invece Alemanno È cascato Sui millimetri Che fa? Si dimette Almeno lui Neanche per sogno Chiede le dimissioni Del capo Della protezione civile E dice Rimpiango Quello di prima Bertolaso Allora il turista inglese Si informa in giro Dice Who is Bertolaso Gli spiegano Che è uno Che è solo sotto processo Per corruzione Recentemente indagato Anche per omicidio colposo Meno male Dice il nostro turista Che adesso l'Italia È governata Da tecnici Gente concreta Competente Molti fatti E poche parole Poi sente Monti Che dice Basta con la monotonia Del posto fisso Che noia Poi sente la Fornero Chi promette il posto fisso Ai giovani Semina illusioni Poi sente la Cancellieri Basta con questi ragazzi Che stanno al calduccio Sotto le sottane di mamma Vuoi vedere Dice il nostro turista Che in Italia I ministri tecnici Hanno i figli precari Manco per sogno La Cancellieri Ha due figli Il primo Pier Giorgio Fa il manager finanziario Fississimo Unicredit Prima e ora Sai fondiaria Bel posto tra l'altro Per andare in questo momento L'altro si chiama Federico Ed è il capo azienda Della 3D Vision Che è del settore Dell'animazione digitale Fisso pure lui La figlia della Fornero Silvia Fa il doppio lavoro Fisso Sotto la sottana Di mamma Perché è professore Associato all'Università Di Torino Dove insegnano la mamma Fornero E il padre L'economista De Aglio Ed è anche responsabile Della ricerca Bravissima E intendiamoci Nessuno mette in dubbio La sua bravura Al Human Genetic Foundation Fondazione del ramo Genetica Genomica E proteomica Umana Chi ha creato Questa fondazione Benemerita La compagnia di San Paolo Di cui la Fornero Madre Era vicepresidente Poi l'Università di Torino In cui insegnano La Fornero Madre E il De Aglio Padre E poi il Politecnico di Torino Di cui era rettore Francesco Profumo Che non poteva sapere Che sarebbe presto diventato Ministro Nello stesso governo Della Fornero E chi finanzia Questa fondazione Dove ricerca La Fornero Piccola La compagnia di San Paolo Vicepreseduta Dalla Fornero Madre Sempre più incuriosito Il nostro turista inglese Accende la televisione E vede Casini Che sta elogiando I ministri tecnici Che tuonano Contro il posto fisso E dice Basta con questo posto fisso Allora il turista dice Sarà uno appena arrivato In Parlamento Questo Casini Sarà un giovane precario Invece è a Montecitorio Da 29 anni Fississimo Dal 1983 Quando in America C'era Reagan In Unione Sovietica C'era Andropov Quello morto poi Per raffreddore Anche Cicchitto Dice che sono sacrosante Le sparate dei tecnici Contro il posto fisso Si vede che lo vuole Tutto per sé Il posto fisso Perché Cicchitto È entrato alla Camera Nel 1960 1776 36 anni fa In America Veniva appena eletto Carter In Iran Non si diceva Iran Si diceva Persia C'era ancora Lo Shah Resa Palevi E in Unione Sovietica C'era Brevi Basta con questo posto fisso Adesso il nostro turista In inglese In Italia Si diverte talmente Che non vuole più tornare In Inghilterra Anzi annulla il viaggio di ritorno E prolunga Le cause civile Anche le cause civili Ancora peggio C'è sempre una lite Fra due Se dà ragione a uno Si incazza l'altro Se dà ragione all'altro Si incazza uno Quindi praticamente Il giudice saprà Che verrà sempre denunciato Qualunque decisione prenda E allora che cosa farà? Nel dubbio Darà sempre ragione Al più forte E sempre torto Al più debole Per limitare i danni Ma al nostro amico Viene anche un altro dubbio Ma Berlusconi Che vuole questa legge Non è imputato Per avere corrotto L'avvocato Mills Affinché facesse Delle false testimonianze Per ingannare i giudici E farli sbagliare E non ha appena dovuto Pagare 560 milioni Con la fine Investate Benedetti Perché il suo avvocato Previti Aveva corrotto Il giudice Metta Nel caso Mondadori Per far sì Che desse torto A chi aveva ragione Cioè a De Benedetti E ragione A chi aveva torto Cioè a Berlusconi Medesimo E adesso vuole una legge Per far pagare i giudici Che sbagliano Ma con che faccia Si domanda sempre Naturalmente Il nostro turista inglese E poi legge Sui giornali Che Bersani Casini e Alfano La nuova troica Chiedono una legge Che deve punire Anche chi pubblica Le intercettazioni segrete Che riguardano persone Non indagate E fatti Non penalmente rilevanti Volta pagina Il nostro turista E scopre Che Berlusconi Sarà processato proprio Per avere ricevuto Un'intercettazione segreta Su una persona Non indagata E su un fatto Non penalmente rilevante Di averla passata Al suo giornale E allora dice Adesso vuoi fare una legge Per vietare Quello che fai tu Ma sei impazzito Dice sempre Il nostro turista inglese E con che faccia Ti difendi Dicendo che sì Tu quella bobina L'hai sentita Però non l'hai ascoltata Perché ti sei addormentato Ma una volta uno Invocava la semi-infermità mentale Adesso questo invoca La narcolessia Come alibi Il nostro inglese Non ci capisce più niente Sono pazzi Questi italiani E per schiarirsi le idee Riapre il libro Di Tremonti Pagina 23 Lo scadimento Della classe politica Dipende dal potere Dominante Della finanza Sulla politica E così Che sulla scena Sono apparsi neofiti Ventriloqui Della finanza Lobbisti E replicanti E dice forte Questo Tremonti Andiamo a vedere Su Google Quello che ha fatto Che ha fatto Tantissimissime cose Ma fra le altre Scopre Che Ha di fatto Depenalizzato Il falso in bilancio Ha fatto tre scudi Fiscali Per far rientrare I capitali Dall'estero In forma anonica Ma a costo minimo Ed è stato ministro Addirittura di tre governi Capeggiati da un politico Che è anche l'uomo Più ricco d'Italia Proprietario di televisioni Banche Assicurazione Tipico esemplare Di dominio Della finanza Sulla politica E poi su Google Si parla anche Di un appartamento Dove il ministro Abitava Che non era suo Ma che aveva affittato Un suo collaboratore Che oggi È indagato per corruzione Al quale pagava Il subaffitto In contanti 4 mila euro al mese Senza registrare Il contratto Chissà mai perché Allora dice Ma è bellissimo Sto libro Ma possibile Possibile Che sia lo stesso Del libro È impossibile Sarà sicuramente Un omonimo Oppure magari Sarà un turista Il Monti è perturbabile Vuole dire qualcosa Travaglio Cosa? È imperturbabile Vuole dire qualcosa Travaglio Su queste cose Che non ho mai violato La legge Ho sempre preso Ho sempre dato In beneficenza Più di quello Che ho preso Dalla politica E basta Bene Allora Facciamo una cosa Mentre Voglio sentire un po' Due voci Dall'assù No? Che ci riportano un po' Nella concretezza Della situazione Italiana Anche se Noi stiamo vivendo Le conseguenze Di questa crisi mondiale Come ci hanno spiegato Chi comincia? Laura Costato Va bene? Allora Laura Eccomi Perché Perché In questo mondo Globalizzato Le nostre aziende Sono costrette A andare Da un'altra parte Perché In questo mondo Globalizzato L'azienda italiana Non può essere Competitiva Siamo in un paese Con la tassazione Più alta d'Europa Con un costo del lavoro Altissimo E con i nostri dipendenti Che al contrario Prendono pochissimo Sempre a causa Della tassazione Dove le utenze Costano il 30% Più dell'Europa Le assicurazioni Costano di più Le banche Costano di più E siamo un paese Che sta all'ottantasettesimo Ottottesimo Posto Della classifica mondiale Come competitività Però alle nostre aziende Piccole Viene chiesto Di essere competitive E già questo Per me È un controsenso Io Ho un'azienda Di famiglia Per cui Siamo in otto Sono 60 anni Che lavoriamo Sul territorio italiano E stiamo Facendo la valigia Come fecero i nostri padri Per prendere Andare in un paese dell'est A lavorare Noi Noi Perché in Italia Non riusciamo più A sostenere Nel costo della vita Né Non possiamo nemmeno più Mantenere i nostri dipendenti Abbiamo cercato di fare Tutto quello che si poteva fare In questi due anni Siamo arrivati al punto Di dire Andiamo noi a lavorare In un paese dell'est Dove costa meno Per cercare di essere ancora Competitivi E di avere un listino Che possa Reggere il confronto Con gli altri paesi Allora io mi chiedo Questo discorso È stato veramente interessante Mi è piaciuto Però se di questa crisi Tutti sapevano E tutti parlavano Dieci anni fa Noi Io credo che l'Italia È sempre stata All'interno dell'Europa La seconda potenza industriale L'economia italiana È fatta al 94% Da piccole aziende Mi chiedo come mai Il governo Questo Quello precedente Quello attuale Cioè Tutta questa politica Non ha mai fatto nulla Per mettere in sicurezza Le piccole aziende In Italia si parla Di grandi aziende Il problema è la Fiat Il problema è l'Italia Ed è verissimo Sono dei grossi problemi Ma il 94% Di piccole aziende Con i loro dipendenti Non contano proprio nulla Noi con imprese Che resistono Due anni fa Nel 2009 Anzi quasi tre anni fa Siamo andati Siamo venuti a Roma A chiedere Un sostegno Al governo Abbiamo fatto Questi quattro punti Che secondo noi Avevano un costo limitato Per le casse dello Stato Ma avrebbero messo in sicurezza Le condizioni economiche Delle aziende C'è stato risposto Che erano punti di buon senso Siamo tornati a Roma Due settimane fa Con l'attuale governo Abbiamo riproposto Gli stessi quattro punti C'è stato risposto Che erano punti di buon senso In questi due anni Nulla è cambiato La piccola azienda Deve fare Da cassa Allo Stato Da cassa Alle banche Queste cose Sono anni che le diciamo Le banche Non erogano più credito Noi Ci sono Le aziende virtuose Noi ci chiamiamo Aziende no profit Perché sostanzialmente Noi quando facciamo un budget Lo facciamo per chiudere in pareggio Neanche più si pensa Ad avere un utile Quanto devo Fatturare Per poter sostenere La mia struttura Con i miei dipendenti Le banche Non danno più niente Si dice C'è l'evasione È vero C'è l'evasione L'evasione però Sta anche in altri posti Ci sono 140 miliardi In Svizzera Si crede Di grande evasione Le aziende cosa fanno Dichiarano Dichiarano Non riescono a pagare Per cui scatta Equitalia Scattano gli espropri L'abbiamo visto In tutti i settori Non solo nel nostro Vengono pignorate le case Vengono portati via I macchinari Perché? Perché uno O è talmente stupido Che dichiara e non paga Oppure c'è un problema a monte Di cui nessuno Si vuole far carico Il problema a monte È i pagamenti Oggi si parla tanto Di pagamenti pubblica Amministrazione e privata Ma però Privato e privato? Nessuno se ne vuole occupare? I pagamenti in Italia? Il governo ha detto Che se ne occuperà Io sento parlare Moltissimo della pubblica Anche ieri In Senato Si è discusso di questa cosa Si è parlato moltissimo Cioè Citare lei Ha detto che queste Sono cose di buon senso E che quindi loro Provvederanno Ma mi è stato anche detto Che probabilmente Con la legislazione attuale Non si può entrare Nel discorso Di una contrattazione Fra privati Però succede Che le grandi aziende Usano le piccole aziende Come banche In Europa I tempi di pagamento 120, 180, 200 giorni Non esistono Anche questo è competitività La piccola azienda Sopporta 10 miliardi L'anno di costi Aggiuntivi Fra credito E interessi Che deve pagare Perché? Perché non si riesce A regolamentare Una transazione commerciale Sui livelli europei Antonella Ce lo vuole spiegare meglio Cosa vuol dire Che siete banche? Perché siete adoperati Voi come banche? Ma nel caso Delle piccole aziende Molto spesso Con questa crisi Che ormai dura da tre anni E che porta i nostri fatturati Con una media Del 30% o meno Rispetto a Prima della crisi Ti ritrovi Con i clienti Che anche loro Che subiscono questa crisi Ritardano i pagamenti I fornitori A loro volta In sofferenza Quindi se voi volete Continuare a lavorare Dovete in pratica Prestare i soldi Al ciclo produttivo Prestare in modo indiretto Certo Perché il cliente ti paga A 120-150 giorni Il fornitore vuole I pagamenti in contanti Tu sei in mezzo E anticipi Questi soldi Per poter stare in piedi Acquistare il materiale Lavorarlo E venderlo al tuo cliente Uno i soldi li vuole subito L'altro i soldi Ti li dà dopo 150 giorni Tu cosa fai? Pur avendo Il fatturato Ridotto del 30% E questo Crea grossa difficoltà Alla piccola impresa Va avanti lo stesso Ma avanti come? Va avanti andando in banca Vai in banca e dice Guarda sto attraversando Un momento di difficoltà L'azienda è comunque solida Storicità di 40-50 anni Come diceva Laura Anche di più Quindi la banca Ti conosce da sempre Sa chi sei Però ti dice Mi dispiace Tu per noi Sei un cliente in sofferenza E quindi Ti chiudiamo il conto A questo punto Devi rientrare Dai tuoi fidi I soldi Per crearti un minimo di liquidità Per sostenere Questo mercato Di acquisto e vendita Non te li diamo Perché non sei più affidabile Quindi rientra Del tuo fido Con un bel piano Di rientro Sei mesi Un anno Circa Al 15% Questa è la situazione Di oggi Delle piccole e medie Imprese italiane Laura posso chiedere Solo una cosa sintetica No? Cioè Quanto di questa situazione In cui siete immersi voi È colpa Diciamo Della globalizzazione Di quella speculazione Che abbiamo vista Tratteggiata prima Nel documentario Diciamo Prodotto dalla Sony E quanto invece È colpa Di tutti quelli Che vi hanno detto Sono cose di buon senso Non hanno fatto un tubo Ma io penso Che grande Cioè questo è proprio Un malcostume tipico italiano Che in Europa Non si vede Quindi c'è un aggravante italiano Secondo me È dettata Da dei grossi conflitti Di interesse Che ci sono a monte Bene Allora Siccome dopo Non vi voglio interrompere No non vi voglio interrompere E chiederò a Mentana Di provocare Diciamo ulteriormente Tremonti Però voglio farvi vedere Una cosa Io le so No Allora Non posso manco Farvela Farvela più vedere Facciamo una cosa Diamo la pubblicità Così subito dopo Ricominciamo Senza interruzioni Da qui Va bene Allora Mentana Aiutami tu Entriamo su un punto Che secondo me Potrebbe essere decisivo Proprio per disegnare Quel futuro politico Che viene dopo Il governo dei tecnici No La questione dell'euro Chiamiamola così La questione dell'euro E la questione Della banca centrale Europea Cioè Dice Tremonti È una banca Che non fa Quello che dovrebbe fare Una banca centrale Non segue L'andamento della moneta Ci dà una moneta Insomma Che diventa addirittura Un cappio al collo Per gli stati Più deboli Cosa dice Mentana Allora Innanzitutto Il dibattito In questi In questi mesi È stato sempre Sul limite Della BCE Come Banca centrale Che non è banca centrale Perché non può essere Prestatore di ultima istanza È un discorso Che si è sentito Quasi come una litania Quasi come un mantra Spesso sembrava in realtà Coprire altri Altri problemi Secondo Giulio Tremonti Se si tornasse indietro Rispetto alla BCE Come Bisognerebbe Disegnarla Innanzitutto Diversa Dovrebbe avere questo ruolo Dovrebbe avere più ruolo C'è stato un difetto Di delega Verso Verso l'Europa E il ruolo Delle attuali Banche Nazionali Quale deve essere Ci devono ancora essere In un disegno Reale A questo punto A cosa serve La banca D'Italia Ad esempio Rispetto alla banca Centrale europea E qual è allora L'uscita di sicurezza Che si deve disegnare Quella della banca Centrale europea È di fatto Una questione politica Quando Io vedo Nell'Europa Tre fasi Dopo la guerra La grande fase Eroica Dei principi Poi Con Il mercato comune Una lunghissima fase Economica Di unificazione Nel mercato comune Poi Con Un fatto Che Muove la storia Ed è sempre Lo stesso fatto Quando si unifica La Germania La leggenda Vuole Che ci sia Stato uno scambio La Germania Si può unificare Ma deve Rinunciare Al Marco Questa è la leggenda Non te la conferma Nessuno Ma Da qualche parte È scritto Questo Questo codice Misterico Posso? Cosa sarebbe successo Se la Germania Avesse conservato Il Marco Sarebbe diventata Troppo forte? Diciamo In qualche modo L'ho detto Parlando Della Taccia Che Quando cade il muro Resta La Deder Alcuni vanno a chiedere Anche Andreotti Era favorevo Al mantenimento Delle La Germania Comunista Il grande scambio Avviene in modo Drammatico Solo alla fine Avviene quando Si muove La Russia In una direzione Quando L'Inghilterra E la Francia Anche spinte Dall'America Consentono All'unificazione Tedesca L'unificazione Tedesca Avviene Come fatto Che Libera Forze Preparate Da tempo Nei laboratori Della finanza L'euro L'euro È una costruzione Politica Che deriva Da un grande Fatto storico Politico L'unificazione Della Germania In quella operazione Tutti ci guadagnano O pensano Di guadagnarci La Germania L'unificazione La Francia La proiezione Della sua grande politica L'Italia Pensa Di mettere Nella fortezza Di Maastricht Quella che poi Sarebbe diventata La fortezza Dell'euro Il suo grande Debito pubblico Il suo storico Enorme Debito pubblico Nella costruzione Non si va Fino in fondo Si unifica La moneta Ma non si unifica La struttura Dei bilanci pubblici Viene coordinata La politica Dei bilanci pubblici Ma non viene unificata Viene messa In campo Una banca Centrale Che è Diversa Dalle altre Grandi banche centrali Non garantisce Gli stati In ultima istanza Questa è una scelta Politica Che viene fuori La storia Che noi viviamo Credo che sia Un modo Di vedere Le cose Giusto L'Europa È costruita In base A un trattato Internazionale E i trattati Internazionali Sono come i matrimoni Che tu contrai Nella buona Ma anche Nella cattiva sorte Ecco Il matrimonio Trattato europeo È stato scritto E contratto Soprattutto Sulle ipotesi Della buona sorte Dove il bene La regola Il progresso Continuo Progressivo L'economia sociale Il mercato Compatibile Con l'ambiente E il male E l'eccezione Da ultimo Di colpo La crisi Il male Diventa Se non la regola Un fatto Molto più importante Di quanto era visto Dai nostri padri Da come era visto Cinque anni fa Dieci anni fa Questo pone Tutti i problemi Di costruzione Di architettura Io ho fatto Per Cioè questa cosa Per esempio Degli stati Che nel frattempo Sono diventati Diciamo Hanno perso Diciamo Quella una volta Era la loro Flessibilità Cioè la possibilità Di decidere In maniera sovrana Sulla propria situazione Economica Se lei guarda Le vecchie monete Che poi c'erano La lira Il marco C'ha i simboli politici In ogni caso Le monete hanno La spada La rato I poeti La tradizione E la storia Dei singoli paesi Se lei guarda Le banconotte europee Lei non trova La spada La rato I simboli politici Lei vede Infrastrutture Ha una bassa Intensità politica Ed era il massimo Politico possibile In quel momento Ma oggi dicevo Uno Stato Uno Stato Uno Stato Non ha più la moneta Quindi non può svalutare Non può manovrare Singolarmente Ed è obbligato A comportarsi Come un debitore privato Lo Stato Dal punto di vista Del debito Ha lo stesso Atteggiamento Nella storia Non c'è mai stato Uno Stato Che annuncia Di comportarsi Come un privato È successo Nell'autunno Del 2010 Quando due importanti Leaderi europei Camminando Su una spiaggia Della bella epoca Hanno detto Che anche gli Stati Possono fallire Nessuno Stato Qualche Stato È fallito Ma nessuno Stato Ha già detto prima Che sarebbe fallito C'è una piccola differenza Il fatto vero È che Adesso dovrebbe cominciare Una fase politica In Europa E comincerà Chi la fa Quando In che modo In che giorno È difficile dirlo E questo Determinerà La insoddisfazione Critica Di Casarini Ma ci sarà Un momento In cui Però tu sai Che sono soggetti La politica È soggetta Al bagno elettorale Tu sai Che Lei sa Scusimi È onorevole Che Il Che Sarkozy Rischia seriamente Di non essere più Al suo posto Tra sei mesi La Merkel Prima o poi Dovrà confrontarsi Con la montante Marea di dissenso Che ha Nel suo Paese Sono abbastanza forti Ho citato Quelli che sembrano I due leader più forti Dell'Europa Sono abbastanza forti I leader europei Per imporre un primato Della politica E poi già che ci sono La seconda cosa Il documento Letto prima È un argomento caro Anche a Casarini E a Manuè Ci dimostra Che si sta usando Lo scrive anche stamattina Il Corriere della Sera La terapia peggiore Per la Grecia Che la prostrerà L'uscita dall'euro Sarebbe una salvezza Per la Grecia? Partiamo da questa Dalla fine Quello che ho sempre Detto e pensato È no Ma stavolta? No Secondo me Quello che serve Alla Grecia È quello che direi Se Me lo chiedessero È Non devi E non puoi imporgli Più Politiche di rigore Perché non servono a niente Più stringi Peggio va Se il tuo obiettivo È che quel paese Stia in piedi Un paese da cui Immigrano i giovani Da cui Escono i capitali Tu non puoi chiedergli Un'ulteriore Stretta Di stipendi Di bilancio Perché Dai 130 miliardi A fondo perduto Il vero modo Perché non siano A fondo perduto E dargli gli investimenti Devi dargli una speranza Una prospettiva Allora Il debitore Diventa pagatore Ma se tu Sono gli euro bond questi? Potrebbe essere Anche quello Un modo Dovesti comunque Imporre rigore E sacrifici E già Siamo alla terza O quarta Imposizione Ma devi anche dargli Una via d'uscita Se tu non gli dai Una via d'uscita E l'unica via d'uscita Per quel popolo Per quel paese Altri dieci anni Di stretta Li strozzi E non risolvi Finisce che perdi Anche i soldi Che hai dato Una domanda secca Politica Siccome ci potrebbe essere Una nuova alleanza Adesso non la vediamo Però ci potrebbe essere Una nuova alleanza Non so Di centro Comunque con la Lega dentro E alleati Contro l'euro Questa sarebbe una cosa Che lei non potrebbe mai Sposare Una cosa del genere Secondo me Non esiste E non è possibile Quello che ho cercato Di fare Cioè la Lega Non potrebbe fare Una campagna contro l'euro Ma lo chiede alla Lega Senta un po' No no Lei è un politico Non si resta anche Lei da tecnico La cosa che mi sembra Seria per noi Per l'Italia Per l'Europa Io Per Quando facevo il ministro Ero il coordinatore A proposito di attività All'estero Ero il coordinatore Dei ministri Del partito popolare europeo Che poi sono abbastanza La maggioranza In quella sede Cominciavamo a Pensare Che fosse Possibile Necessario Utile e possibile Una combinazione Sopra Mettere i bilanci Verso il pareggio In una posizione Di rigore Ma sotto Sull'economia Fare gli euro bond In questo momento Il trattato europeo Come viene sviluppato È sbilanciato Cioè dire Hai un campo Di concentramento Finanziario Un lager Di obbligazioni Di tutti i tipi Sopra Ma sotto Hai troppe differenze Economiche e sociali L'area dell'Europa È talmente diversa Per demografia Per geografia Per ricchezza Che non puoi avere L'unificazione Dei bilanci Senza avere anche Una convergenza Dell'economia Ed era l'idea Degli euro bond Giulia Allora Prepariamoci tutti Per un giro D'opinione Su questo aspetto In sostanza L'uscita di sicurezza Di Tremonti Potrebbe essere Sintetizzata così Maldestramente Da me Però Insomma Se ci sono cose In cui sbaglio Si possono fare Delle aggiunte Ritorno della politica Centralità Della politica Un sistema Che mette Lo Stato Diciamo Nella condizione Di agire Da protagonista Ma lasciando Libero il mercato Cioè un sistema Misto Dove lo Stato Non svolge più Una funzione Inessenziale Ma dove il mercato Continua ad essere Un mercato Libero Ma regolato Questa è l'uscita Di sicurezza Che obiezione Facciamo Su questo Prima obiezione La faccio fare Dal tuo fronte Vediamo Infatti ho chiamato Giacomo Zucco Che lui fa proprio Una critica da destra Perché è il portavoce Del Ti Parti Italia Che è un movimento Proprio contro Lo Stato Che interviene Nell'economia Contro l'eccessivo Peso dello Stato Nella vita delle persone E ti convince Questa analisi Di Tremonti? Ma noi Innanzitutto Chierisco Ti Parti Italia Promuove il libro Di Tremonti E invita tutti quanti A comprarlo Solo non questo libro Non l'uscita di sicurezza Il libro del 1998 Che era Lo Stato criminogeno Che spiegava molto bene Lo consiglio veramente a tutti Editore La Terza Spiegava molto bene Come sia lo Stato Il regolatore L'intromissione continua Del regolatore politico A creare distorsioni A creare deformazioni E come i vini Diamo nate E come i vini Diamo nate E come i vini Dice Mentana Sì però Il problema è che è andato Un po' in accento A nostro parere Meglio per i libri più Lo Stato criminogeno Era ben denunciato Ma Tremonti come ministro È stato uno dei ministri Più criminogeni Della storia d'Italia Nel senso che ha esteso Il potere Il peso Di questo Stato criminogeno Per carità I primati di Visco O Pada Schioppa Non si battono in questo Però anche Tremonti Sull'elevazione Della tassazione L'elevazione Dei metodi Polizieschi Per andare a perseguitare Ogni impresa in difficoltà L'elevazione Della spesa pubblica Perché Tremonti Veniva chiamato Il ministro dei tagli Ma faceva tagli Alla crescita tendenziale La spesa pubblica È sempre aumentata Adesso siamo al 52% Del PIL E anche il debito Non è stato veramente Messo in sicurezza Come doveva essere Però Giacomo Contro il fascismo finanziario Di cui parla Tremonti Non ci vuole lì Un intervento Dello Stato Ma è paradossale Dire che la crisi È creata dalla finanza È esattamente come dire Che è la colpa Del bombardamento Di Hiroshima e Nagasaki È della fisica nucleare La finanza è uno strumento La colpa è di chi Luisa male La crisi finanziaria Che adesso La politica Dovrebbe risolta Non dalla finanza Come concetto Dalle banche Come entità reali Che hanno costruito Una montagna di debiti Se uno guarda la storia È stato creato Esattamente Da quel regolatore Che ci dovrebbe salvare Dalla politica La politica Che si è messa a giocare Con i tassi di interesse Quindi ciò che ha creato Quell'incredibile mercato Dei prestiti Era un tasso di interesse Troppo basso Deformato Che ha creato Quegli speculatori Creati dalla politica Non solo La politica Dopo aver per decenni Giocato sui tassi di interesse Sui tassi di interesse Sulla mercato della moneta Che è il più importante Di tutti Direttamente Si è inserita Con le due agenzie Che il filmato Citava Che erano Fanny Fanny Mac e Freddie Ma Sono due agenzie Governative Che sono state Create dalla politica Statunitense Per incentivare La concessione Di debiti Supreme Quindi non rimborsabili Quindi la politica Per i suoi scopi Clientelari Ha spinto verso Ha enfatizzato Questa cosa Dice Emanuele Forza Veloci però Io voglio dire Solo una cosa Io la parola chiave Che io sarei Che non c'è mai Nel libro di Tremonti Né in quello Che appena sentito È la parola Redistribuzione Rapidamente Quali sono i paesi Che sono in crisi I paesi che sono in crisi Sono i paesi Che non riescono A raccogliere le tasse In maniera adeguata Tutti i paesi mediterranei Con l'Irlanda inclusa Quindi il problema È che non c'è Abbastanza stato Poi c'è un altro problema Che in questi paesi C'è una tassazione Molto regressiva Cioè in questi paesi Non si è stato capace Di redistribuire il reddito Attraverso una tassazione adeguata E questo È una lunga eredità Che ci portiamo Noi in Italia Ma che si portano anche in Spagna Portogallo Ed altri paesi Nei paesi in cui La tassazione è molto più progressiva Come la Svezia La crisi ha colpito Con molta Molto meno forza Perché Svezia Si è stato capace Si è capace Di raccogliere le tasse La tassazione è più elevata E la spesa pubblica È più elevata Ultimo punto Per smentire questa storia Che il problema È la spesa pubblica Del welfare state Non è vero neanche questo Il problema grave Il problema grave È che si è abbassata La domanda E con questo Si è abbassato L'introito dello Stato Lo Stato non riesce più A finanziare La spesa pubblica Quindi è un problema Di domanda Io in questo sono Anche se non sono d'accordo Su alcune cose Delle quali dice Tremonti Alla fine È un problema di domanda E quindi dobbiamo capire Come stimolare questa domanda Secondo me questa domanda Va ristimolata Attraverso la redistribuzione Quindi io sarei più coraggioso Possiamo risanare Ma se il prodotto lordo scende Ci troviamo sempre più in difficoltà Esatto Quindi dobbiamo fare qualcosa Per distribuire il reddito A chi lo spende Invece a chi lo investe In giochi finanziari strani Allora Dragoni Allora Casarini Così ci riaccende Monti Vediamo Che ho visto che vi piacete Quindi è divertente Questo dialogo fra di voi Mi piace molto Però facciamo un esempio Di redistribuzione Dei redditi Allora Prego Anch'io chiedo Se Tremonti vuole rispondere Negli ultimi dieci anni È stato molto tempo Il ministero del tesoro Il debito pubblico In quei dieci anni È salito da 1200 Ai 1905 miliardi Di fine novembre Forse può darci qualche Spiegazione Però parlo di un'altra cosa I dipendenti della Fiat Hanno ricevuto La prima busta paga Era basata sull'accordo sindacale Controverso di Pomigliano Con qualche soldo in più La Fiat aveva previsto Che nelle trattative L'aumento secondo il livello Poteva essere Da 45 a 135 euro Lord in più Ogni mese La FIOM ha confrontato La prima busta paga A gennaio Con quella di novembre E calcola Che per un operaio Di terzo livello Che è la categoria Più diffusa Mirafiori L'aumento è di 36,42 euro Quindi vicino ai 45 Però attenzione Non Quest'aumento In un anno intero Ah in tutto l'anno Sì Equivale Se la FIOM non ha sbagliato A toccare la calcolatrice 17 centesimi Per ogni giorno Di lavoro In più 3 euro al mese Eh? 3 euro al mese Sì Beh 17 centesimi al cibo Beh c'è da c'è da Inoltre È un calcolo complesso Inoltre Ci sarà il premio straordinario Però Pagato a luglio Per chi avrà lavorato Almeno 870 ore Sarà di 600 euro Lodi Una gratifica L'ha appena ricevuta Sergio Marchionne Che è alla guida Della FIAT Dal primo giugno 2004 Quell'anno Il gruppo Era sul baratro E ha perso 1 miliardo 586 milioni di euro Mentre l'anno scorso Solo la parte auto Della FIAT Perché si è divisa in due Ha dichiarato Un utile netto Di 1 miliardo 650 milioni Secondo gli accordi Allora Marchionne Ha ricevuto Azioni gratuite Della FIAT E siccome il valore In borsa Dal 2009 È triplicato Questo premio Adesso Ha un valore Di 50,6 milioni Di euro Cioè 100 miliardi Delle vecchie lire Il condottiero Della FIAT Che dice Di essere Un metalmeccanico Ha quindi Incassato In un colpo solo Quello che In un anno Guadagnano 2000 Dei suoi operai Il suo premio È più alto Perfino Del dividendo Che la FIAT Quest'anno Pagherà Ai soci Un dividendo Che sarà solo Di 40 milioni Di euro E sarà solo Per le azioni Di risparmio E privilegiati Che sono poche Per pagare Le tasse Su questo premio Elevato Marchionne Evidentemente Non aveva i soldi Perché ha deciso Di rivendere Subito in borsa Una parte Delle stesse azioni Gratuiti Che ha ricevuto Quante Circa un quarto Di queste Siccome però È residente In Svizzera Paga le tasse Al massimo Del 30% E non Come sarebbe Il 43% Residente in Italia Quindi paga Meno anche Dei suoi dipendenti Che guadagnano Meno di lui Il premio Un attantum Si aggiunge Alla busta paga Che Marchionne Come ogni buon top manager In cassa ogni mese Dal 2004 al 2010 Ha ricevuto Dalla Fiat 34,6 milioni Di euro lordi In media Sono 438 mila euro Al mese Cioè 15 mila euro Ogni giorno Eppure La Fiat Come va In Italia In Europa Vende meno auto E perde quote Di mercato In Europa La quota Era l'8,8% Nel 2009 Quando fu promesso Il premio A Marchionne E l'anno scorso Era del 7,1% Quindi dove guadagna La Fiat Esatto La Fiat poi Produce meno auto In Italia Meno di 500 mila L'anno scorso Due anni fa Erano 650 mila La Fiat ha guadagnato Soprattutto in America Su un miliardo 650 milioni Di profitti Intanto un miliardo È diciamo Un effetto finanziario Delocalizzato Una plusvalenza Dovuta all'acquisto Della Chrysler Che Marchionne Non ha pagato nulla Perché era Quindi rivalutandosi Le azioni Un miliardo E al netto di questo Come ha scritto Il sole 24 ore Analizzando il bilancio I conti della Fiat Sono in pareggio Ma tolte anche La Ferrari E la Maserati Che sono un po' Una famiglia a parte Le attività Dell'auto in Europa Che sono quelle Che hanno il grosso Della forza lavoro In Italia Sono in rosso Di 500 milioni Di euro Si dice che Marchionne Ha salvato la Chrysler Allora Salverà anche la Fiat Allora Casalini Il problema è questo qui Abbiamo appena È ovvio Stavano ingueati La Fiat Marchionne Ha rimesso i conti Non solo a posto Dice solo 40 milioni di euro Vabbè ma Altrimenti sarebbero Non avrebbero diviso Proprio niente Quindi sono comunque Contenti quelli Che possono avere Questi dividendi Il problema è che Questa ristrutturazione Viene fatta Sostanzialmente Indebolendo Quelli che stanno sotto Perché quelli che stanno sotto Non si rafforzano per niente Insomma Sia perché diminuiscono Di numero E sia perché Non ci guadagnano Da queste operazioni qui E questo è il paradigma Di quello che sta avvenendo Su tutto Marchionne è Non è la causa È l'effetto Di una dimensione Della crisi globale Di come è curata Questa crisi Io credo che sia Una crisi sistemica Sistemica Non vuol dire Della finanza O del rapporto Tra finanza E economia reale Vuol dire Di un sistema Nel suo complesso Che ha dentro Anche la politica Storicamente conosciuta Nella democrazia liberale Rappresentativa Eccetera Anche i partiti Anche i sindacati Non funzionano più Neanche i partiti Due La questione Dell'Europa Ci rimanda a un problema La democrazia Noi qui ci stiamo Dimenticando Che tutto questo Avviene E Marchionne È il paradigma Anche di questo A scapito Di una cosa fondamentale Cioè Della possibilità Di tutti Di partecipare La decisione Chi è della FIOM In FIAT Non può più entrare Perché? Perché non era d'accordo Questo è il sistema Che viene proposto Quindi io credo Che noi dobbiamo Immaginarci E lottare Perché sarà un conflitto Perché chi prende 50 milioni di euro All'anno O 438 mila euro Al mese Non te li molla Così facilmente La redistribuzione Ma la redistribuzione È un problema Di democrazia Cioè di conquista Democratica Nuova Noi dobbiamo Immaginarci Un'alternativa Questo è il nodo Ma anche sul modello Di sviluppo Perché questa crisi È sistemica Ma non è solo finanziaria È alimentare È energetica È climatica Non ci basta Vedere quello Che sta accadendo Questo modello Non funziona più E noi dobbiamo Riprenderci in mano La nostra vita Dal basso Dico dal basso Perché? Perché quelli Che stavano in alto Hanno avuto Il loro tempo E hanno fatto male Sono screditati Non sono credibili Non posso farmi curare Da chi mi ha avvelenato C'è un problema Di democrazia? I cambiamenti Non sono Neanche i cambiamenti Climatici No? Non sono istantanei Sono un processo Che comincia E poi se A consistenza Va avanti Quindi chiunque sia Che fa politica Secondo me La politica Sta tornando In che forme In che posti In Europa In Grecia Ma io penso Anche tra di noi Che sta tornando È finita una fase Di dominio Della finanza Su tutto Comincia Un processo opposto Il fatto che sia Nei programmi in Francia Nei programmi in Germania Magari non vincono Ma è un punto importante Se uno vuole L'assoluto L'istante In cui Futurista In cui tutto avviene Forse non ha capito Che cosa sta succedendo La politica Sta tornando Il Parlamento Che si oppone Europeo Che si oppone Alle politiche Sulla Grecia Quello che stanno decidendo In Grecia È un processo Che ci porterà A come era il mondo E devo dire Un mondo Per cui ho una qualche Valutazione positiva A come era il mondo Ancora fino alla fine Negli anni 90 Ovviamente con tutti I limiti Le ingiustizie I contrasti Ma era un mondo Più giusto Di quello che c'è adesso E quando sento dire Ma è Vecchio Nuovo Socialista Di sinistra Di destra Quello era un mondo Che Pur con tanti contrasti Con tanta dialettica Però in un qualche Modo si equilibrava La ricchezza Delle nazioni Che la Bibbia Del libero mercato È la ricchezza Ma anche le nazioni La ricchezza Ma anche le nazioni Quello che vediamo adesso È che la ricchezza Si sta mangiando Le nazioni E poi Si divorerà E se stessa Questa è la realtà Che vediamo E viviamo Io penso che La gente Comincia a capire Che C'è troppo dominio Dell'economia Sulla vita Della finanza Sugli stati E che Molte vie Portano A un cambiamento Che non è La grande rivoluzione Ma il ritorno A un mondo Pi'equilibrato Come era In America Negli anni 30 Dopo la grande crisi Come era da noi In Europa O anche in America Fino agli anni 90 Quando la follia Della globalizzazione L'illusione Di tutto questo Porta a dare Tutto il potere Alle banche È chiaro Il potere È un quantum Definito Se lo dà Alle banche Lo togli agli altri Consenzienti O no Volenti o no Ma è così Quando tu lanci Una ricchezza Che è fatta Solo sulle scommesse È sbagliato La devi riportare Al casino Ha visto che la Deutsche Bank Ha inventato i bond morte Adesso Ho letto qualcosa di simile Cioè scommettono Su quanto vive uno Questa è una Una cosa di investimento Caseri Non so se lei C'ha la casa o no Ma se io scommetto Sul fatto C'è il mutuo Quindi ce l'ha Bravo Saprime Saprime Certamente Ovviamente Ovviamente Se io scommetto Sul fatto Che brucia la sua casa Io non sto Procurando un bene La sicurezza Sulla assicurazione Contro l'incendio Sto causando l'incendio E questo è un mondo Fatto tutto così Va bene? Posso chiedere a Paolo Mieri Di aiutarmi a fare l'ultima No posso Solo una roba Cioè io penso Che il buon senso Ti dice Io non sono Un fanatico Un teorico I modelli Dell'economia È molto semplice Secondo me Una economia Può basarsi Come è sempre stato Sulla domanda interna Sui consumi Sull'export Ma anche Sugli investimenti pubblici I tavoli che stanno in piedi Sono a tre gambe È sempre stato così In questo momento Noi abbiamo In Europa Domanda Che cala Perché tutti Sono in difficoltà Export Che non va benissimo E manca Il terzo pilastro Il vecchio motore Funzionava Con questo ritmo Sempre più rusveltiano Sempre più rusveltiano Ma io parlavo Degli aerobond Nel 2003 Erano rusvelt Dell'or Non lo so Sono sempre le stesse cose Di buon senso Raccogliere soldi Per fare investimenti pubblici Io Nello scenario Che disegna Tremonti C'è questa possibilità Positiva Questa uscita Di sicurezza Ma c'è anche Il rischio Della catastrofe Cioè lui dice Potremmo finire In uno scenario Che è Comunque Da ipotizzare Nel quale Non si pagano più Gli stipendi Si tagliano le pensioni Cioè quella situazione Che abbiamo visto Praticamente La settimana scorsa Qui Vedendo le immagini Della Grecia Questa è La sostanza Di questo Scenario Secondo Paolo Amieli Tremonti È convinto Che quello Che stiamo facendo In questo momento Ci stia portando In sicurezza Oppure no Cioè concretamente Quello che stanno facendo I tecnici adesso È chiaramente Non ce lo dirà mai Perché lui parla Della Grecia Ma quanto siamo diversi Provo a decodificare io È convinto Che c'è il rischio Che non andiamo In zona sicurezza Ma io ho un dubbio In più Che sia molto difficile Con queste coordinate Andare In zona sicurezza Per due punti Primo Noi parliamo Di economia Economia selvaggio Alle banche E Stato Ma noi 20 anni fa Scegliemmo Uno Stato Che si chiamava Europa E mettemmo Alle badi Facendo un grande errore Un grandissimo errore Che i padri Tutti coloro Che sognarono Immaginare l'Europa Ci dissero E ci lasciarono Ditto Guardate Fondate prima L'Europa politica Poi venga Quella economica Noi invece Abbiamo fatto Una coda Perché si poteva fare Sognando Pensando che il mercato Avrebbe comunque prodotto Qualche risultato E questo è stato Un errore Progressivo Positivo Perché Ai patti Cominciamo a dire Ai patti Non siamo stati Noi firmammo Il trattato di Maastricht Prendendo degli impegni Di rientro Dal debito pubblico E chi li ha osservati Il debito pubblico Anziché diminuire Passo a passo Essere impostato Per diminuire È andato aumentando Ma come facciamo A fondare l'Europa Adesso politica Quando i soldi Scarseggiano Il punto è questo Queste sono grandi Fondazioni Che si fanno Quando ci sono i soldi Ma che mancano i soldi Come fai a convincere I tedeschi Mettiamo tutto insieme E non pagare il debito È una scelta politica L'unico modo In cui la politica Si può riappropriare E poi Non avere lo Stato Fammi finire Significa affidare Lo Stato Alla Germania Questo è accaduto Cioè La Germania Che è il paese Compatto Il nocciolo duro Dell'Europa È l'Europa Poi noi Ci mettiamo Diciamo Facciamo A volte Siamo ammessi Al tavolo Quei tedeschi Il paese decisivo È la Germania Quindi non è che ci sono Altre alternatività O l'Europa O la Germania Leader dell'Europa Il resto Non è dato Il resto sono L'illusione Che Ognuno Se la cavi Per conto proprio È un'illusione Come se Nel 1861 Visto che abbiamo Fatto le 150 anni Le celebrazioni Le 150 anni Invece di fare L'Italia Avessimo lasciato Il Regno La Sicilia La Stata Pontevice Avessimo Unificato La moneta Abolito le barriere E ognuno Continuava a fare Per il regno È ovvio Che saremmo andati Incontro A una catastrofe Poi voglio dire Un'ultima cosa Rispetto Al tema Liberismo Non liberismo Lo Stato Sapete Sapete cosa è successo Negli anni 30 Nel 1930 A ridosso di quella crisi L'Italia fece un Capolavoro Politico L'Italia di Mussolini Cioè Mussolini Fece un capolavoro politico Politico Economico Chiamò due Antifascisti Beneduce E Menichella Erano veri Antifascisti Seguaci Di Giolitti Di Nitti Il primo Giolitti Il secondo E gli diede In mano Liri Tutto il mondo Dei liberisti Perché ce n'erano Si allarmò Ma Einaudi Luigi Einaudi Scrisse un celeberto Un articolo Sull'Economist E salutò Positivamente Questa esperienza Che decollò E fu il modo Una chiave Studiata In tutto il mondo Per affrontare E risolvere La crisi di Gennet Che insegna No Intanto questo insegna Che Se voi Noi ragioniamo Con le stesse carte Quello erano Mussolini Due Forti Economisti Antifascisti Il capo Dei liberisti Italiani Che formano Una miscela Diversa Strana E che consente Di dare una mano forte E' l'ultima domanda Tremoni Io ci provo Però è l'ultima domanda Poi dopo Poi dopo Sentiamo il nostro Vero esperto L'unico nostro Vero esperto Quello che ci Illumina Sul cammino Da fare Abbiamo solo lui Da sentire Che fa Le conclusioni E chi è? Vero Lui è molto prima di lei Si è avvicinato A certe posizioni Mi avevo testato Quindi voglio dire Vero Sa che Vero È il nostro Maestro del pensiero Quindi è lui Che conclude No Però le volevo dire Insomma Queste cose Che descriveva Adesso Mieli La battuta Che ha fatto Mentana Sulla non restituzione Del debito Come una delle Possibili ipotesi Che abbiamo davanti Tutte queste cose Qui Non sono In questo momento Al centro Della nostra Attenzione In questo momento Noi non parliamo Di come riformare La banca Come mettere sotto controllo Il debito pubblico Se fare Gli eurobondo Fare un'altra operazione Come gli eurobondo Noi parliamo Di come riformare Il mercato del lavoro Noi stiamo parlando Di come aumentare Il prezzo Della benzina Noi stiamo parlando Di come Aumentare Diciamo così L'IRPEF Regionale Per la sanità Quindi non abbiamo Nella nostra agenda Queste priorità Lei pensa Che non mettere Quelle altre priorità Al centro Sia pericoloso Oppure no Questo ce lo può dire Siccome non esiste Un'economia nazionale Ma esiste L'economia in Europa O del mondo Se lei guarda Un pezzo E non guarda il tutto Va a sbattere Quindi pensare Che noi siamo Il centro di tutto Che il dibattito Che si fa a Roma Ma sia quello importante È un errore Tu devi capire Quali sono i grandi andamenti E i grandi andamenti Sono quelle che lei tratta Come marginali Poi dopo abbiamo altri Abbiamo tutti I grandi problemi Ma i problemi italiani Sono problemi Che derivano E vanno Da fuori Ho sentito dire Anche lei ha detto Il debito pubblico È salito Il debito pubblico Italiano Il debito pubblico Italiano In rapporto Al prodotto Che è l'unico modo Per valutarlo Non in assoluto Per merito di Ciampi Di Prodi Dei governi Berlusconi È sceso Dal 120 Verso il 100% Prima della crisi Stava scendendo In modo molto significativo E rispettava perfettamente Gli impegni Presi Con E qui l'abbiamo anche Sottolineato Alzi c'è stata una fase In cui La Germania Andava male E l'Italia Andava meglio Se uno va a vedere Non Quindi il problema Il problema sono Gli interessi Sui titoli pubblici Lo sappiamo Con interessi Con interessi Il debito pubblico Italiano Ripeto Dagli anni Di Ciampi Prodi Primo Bellusconi Altro Bellusconi In poi È sceso E con la crisi Che Venendo meno Il prodotto Interno lordo Quel rapporto È cambiato Aggiungo un'altra cosa Io ho letto a lungo Gli articoli Che scriveva Il professor Monti Sul carriere della sera Fino a luglio Scriveva Quello che adesso Viene contestato Diceva Il bilancio Pubblico italiano In sicurezza I conti Sono in ordine E devo dire Era esattamente così Quando si vede Cosa era Lo spread Allora Ai miei tempi Era 120 E 140 Adesso Sembra un trionfo Che ha 350 Che sarebbe Come il triplo Allora Quello che succede Ed è La cosa Che ha colpito tutti È che Quando viene Degradata L'America Inizia la guerra Dei debiti pubblici La guerra Dei debiti pubblici Diventa Il problema Dell'Europa Dove c'è Un problema Di banche Ma c'è anche Un problema Di crisi Sovrana E quando tu stai In un paese In Europa Un po' Complicato E l'abbiamo detto Con due tizi Che vanno in giro E dicono Gli stati Possono fallire Allora è chiaro Che vanno in crisi I debiti pubblici Dei paesi Che ce l'hanno Più grande Con l'economia Meno forte Questo è Quello che è successo Poi altre cose La politica italiana A un certo punto E ti rilassi Di bonaccia Perché la BCE Stampa E presta denaro Questo è quello È d'accordo Non puoi pensare Dell'Europa Quando lo dice Monti E dice Il problema è l'Europa La Germania Deve fare diverso Di più Dice la cosa giusta Ma ha detto lei Che credito vuol dire Credere C'è scritto Giusto Quando Adesso Monti Ha più credito Quando Come ci dice Obama Rispetto a prima Io torno a dire La grande svolta Avviene Quando Sarkozy e Merkel Vanno a dire Che gli stati Possono fallire Il giorno dopo Comincia l'attacco All'Irlanda È chiaro il concetto Bene Allora Fermiamoci qui È il momento di Vauro Diamo l'ultimo blocco Di pubblicità Lui si prepari Venga Faccio un po' sorridere Tremonti Diciamo Oddio Dio mio Che compito Ingrado Seppure Fatto male Al piede Insomma Poglio e Tremonti Dobbiamo andare a Berlino A rifare il muro Uno Dalla parte Uno dall'altra Va bene Allora Subito dopo la pubblicità Vauro Dove va? Mi raccomando Titolo dall'incontro Perché mi è arrivata Qualcuno Socrate E andiamo Grandi spalatori Grandi spalatori Dopo la fuori Vuol dire che restituirei Vuol dire che restituirà Da parte Da parte Non si è fatto Lo sai che lui Verrà edotto Oh acquisti inutili Monti ha detto che ha disarmato i partiti E allora che bisogno aveva di spendere 27 miliardi di euro in caccia a bombardieri Che è un bello ster Qualcuno l'ha tolto E poi c'è stato Che è stato questo decreto Tante polemiche Varato il decreto svuota carceri Trent'anni che sto qui e da un giorno all'altro mi sbattete fuori? Peggio che alla Fiat Non si sta più tranquilli neanche in galera Tu sai che l'ultima vignetta Ah no Eh sì Ma libero La creaturina di Dio è il topino Ma libero Perché il topino No ma il topino è sensibile Agli appelli del governo E te lo dimostrerà Ma che è un po' sottoesposto Capito? Da tutti i punti di vista Più sotto che esposto Perché si affaccia soltanto Ma non è che si fida molto Però si vuol fidare Stavolta il topino Che è l'eredità di padre indignato Fiderà Bisogna essere pronti a cambiare Basta con il posto fisso Pronto onorevole Gasparri? Inizi a tirarsi giù i pantaloni che arrivano Senti il topino cambia Anche questa settimana Anche questa settimana Ce l'abbiamo fatta Abbiamo il male Il numero Il numero Lo dice Il numero Numero 16 bis 16 bis Ma già nella testata C'è un paio di conna Ho visto È un numero Scaramantico Ah l'hanno messo No questo è dedicato al sindaco Appunto L'abominevole Sindaco delle nevi Che farà sfoggio Della sua capacità Oh stanotte esce Stanotte esce Tenete a casa i bambini Tenete a casa tutto Perché l'abominevole Palo munito Pala munito Poi vi consiglio Perché il fatto C'è il suo scoop Ma anche noi C'abbiamo il nostro scoop Perché nell'altra nevicata Passeggiando vicino A Piazza del Gesù Sepolta nella neve Abbiamo trovato La mummia Di un risalente A 7-8 mila anni fa Di chi? È questo Per sapere di chi È come quella Dell'uomo Di Similau Diamo un appuntamento Come si chiamava L'uomo di Similau Bravo Come si chiama Sembra di Tremonti Ozzi 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 È la nostra È la mummia Di Andre Ozzi Andre Ozzi Senti Volevo dire una cosa No Stanotte Tutti quanti Non andate a casa Postatevi nei posti Perché può uscire L'abominevole L'abominevole sindaco Nessuno va da casa Tutti l'appostamento Eccetera eccetera Ma soprattutto Ci vediamo Il 23 Il 23 Giovedì È importante perché Giovedì Siamo tutti in attesa Di Celentano E di cosa dirà E di cosa dirà Celentano Su Monti Mare e Monte Va bene Arrivederci a giovedì Grazie a tutti Giovedì Giovedì